E che altro? Vai vai, mi piace perché c'è tanti spunti Non sono finiti Buonasera Buonasera a tutti Buonasera a tutti Benvenuti Tu stai seduto? Sì Buonasera a tutti Benvenuti Ottavio Che numero? Ah 200 Benvenuti alla puntata numero 200 di Tintoria Applauso E vai Qui con me Stefano Rapone ragazzo meraviglioso anche nei grandi teatri forse ancora di più Stefano come va? Beh bene Non c'è male Sei carico? Carichissimo C'è questa temperatura assolutamente naturale Vedrai che ci sono 50 gradi Ci abituiamo Sì sì ci abituiamo Quella era acqua quando l'abbiamo messa là È fermentata da sola È diventata birra Grazie di essere venuti qua Puntata a 200 Siamo in un teatro gigantesco Grazie mille Non so quanti di voi abbiano mai assistito Per alzate mano chi è la prima volta che assiste alla registrazione di Tintoria? Dal vivo Tutti Chi sono queste persone? Allora io faccio sempre una premessa da snodo che quindi faccio anche stasera Io dico sempre che voi adesso non assisterete a uno spettacolo Voi assisterete a una conversazione di solito tra tre persone Oggi addirittura solo due Noi non cercheremo attivamente di intrattenervi Ma se finiamo con l'intrattenervi siamo molto contenti Quindi se volete ridere applaudite Se volete ridere ridete No fate il contrario Se volete ridere applaudite Se volete applaudire ridete Sì Se dovete andare in bagno bevete Vabbè basta Se volete ridere ridete Se addirittura volete applaudire Applaudite Però se volete parlare Vi devo chiedere di farlo il meno possibile Questo di solito lo dico a snodo Ma qua essendo un teatro mi sembra pure abbastanza scontato Altre raccomandazioni? Fare il podcast è una cosa di squadra Fare il podcast Bravissimo Fare un podcast al vivo è un lavoro di squadra Oggi siamo tutti nella stessa squadra Quindi daje Sì Altre raccomandazioni? Niente Abbassate le aspettative Per dirlo I calci e bicchieri non potete darli I calci e bicchieri di vetro non li potete dare Perché siamo a teatro Vi hanno dato bicchieri di vetro? No Date calci al vostro vicino Se volete Così magari si crea lo stesso dolore Dai Cominciamo Cominciamo Mi sono dimenticato qualcosa Sicuro Vabbè comunque questo è un podcast Adesso non so Questa è la puntata a 200 Intanto forse Luci Mamma mia Mamma mia Ci siamo salvati così Abbiamo già Cominciato C'ho la cartellina Di tintoria C'ho la cartellina Io c'ho queste foglie Ah non ti hanno dato la cartellina Perché ho fatto i soldi Questa è la mia cartellina di diamante Vedi Sembra un po' E vabbè dai Siamo arrivati Siamo alla 200 Puntata a 200 Incredibile Ci siamo Allora vi diciamo la verità Eravamo un po' Tesi Prima di questa puntata Perché Ci siamo rivisti Le puntate vecchie In cui eravamo da soli Io e Stefano Di solito C'è sempre l'ospite Magari c'è qualcuno Che è stato portato qua E non lo sa Di solito abbiamo sempre un ospite Ci siamo rivisti delle puntate Molto vecchie In cui eravamo solo io e Stefano Fatte Oltre il cazzo del cane Cioè proprio Sì 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 ci siamo rivisti Vediamo nella puntata 100 Che abbiamo fatto La puntata 100 si apriva Con Stefano Che mangiava una pizza Boom Dieci minuti a parlare di pizza E poi La cocchera l'abbiamo togliata Con la rotellina Quattro minuti sulla rotellina Però era una bella puntata Cioè è stato bello Solo che adesso Non so se Ci siamo invecchiati noi Sarà questo Cioè sarà noi che parliamo Di niente Quindi mi dispiace Che avete pagato Per questa cosa Ci sarà anche un momento Domande dal pubblico A un certo punto Passerà Ottavio Nel pubblico Con il microfono Idea rubata A nessun altro podcast Dal vivo prima di noi Però lo diciamo Quando succede Però passerà Ottavio Quindi se intanto Vi va di pensare Delle domande Noi poi Penseremo delle risposte E Ci abbiamo il set nuovo Queste sono le sedie Ce le ha fatte Secchei Che è uno Che si chiama Secchei Che fa Non so se dalla si vede Questo è cartone Pressato Forse dobbiamo prepararci di più È cartone pressato E quindi super ecologico È una cosa incredibile Pressato dalle persone Della sud-est asiatico Sì però Pagate benissimo Pagate benissimo Strapagate E questo è Super ecologico Dice lui D'altro è quello che le fa E però Eravamo preoccupati Sono anche ignifughe Sempre lui lo dice questo Non so se è mai stato provato Però noi ci fidiamo Da adesso dovrebbe essere Il nostro setting Ti piace? Molto carino Dai non è male Molto carino Comodo dai Ce l'abbiamo solo noi La cosa In legno In Come si chiama? Cartone Cartongesso No non è questo Adesso prima puntata All'aperto che facciamo Con l'ospite che fuma Vediamo se il dottor Secchei Oltre a essere genocchio E anche un bugiardo Si fuma una sigaretta Prende fuoco tutto E vabbè Speriamo che prendi fuoco tu Per il resto Per il resto che dici Come va? Sì Ho fatto male Gli addominali bassi E mi sono infiammato Tipo le anche Non sono un medico Però credo Che è quello che è successo E quindi quando mi alzo Faccio tipo E mi fa malissimo E poi devo fare Due momenti Perché fai lo sport Non dovresti fare Eh lo so È quello che mi frega Non dovresti fare sport Non è quello che mi frega Porto solo a questo Ma oggi tra l'altro È un altro anniversario Oltre quello Cioè Anniversario Oltre le 200 puntate Sì è vero Oggi sono 30 anni Che è morto Bill X Quindi Applauso Applauso a Bill X Non alla morte di Bill X Applauso alla vita Alla vita Alla carriera di Bill X Stand up comedian Comunque sia importantissimo Poi soprattutto La scena comica Italiana Si è proprio attinto Si è abbeverata Di Bill X Nei primi anni Qualcuno anche troppo Però Bill X Faceva dei monologhi Belli Che trovate su internet Abbastanza unici Cioè per essere americano Faceva un sacco di satira Sociale Dritta per dritta Era una roba Bill X E oggi sono 30 anni Alla morte Di un grande Di un maestro È bello ricordarlo Anche con Alcune delle sue Battaglie Che faceva Sì Che battaglie faceva Devi dirlo tu Ah Vabbè C'era tutti i monologhi No dillo tu Dillo tu C'era il monologo Quello What are you reading for Quello faceva ridere Poi lui faceva La cosa che non Vabbè lui Era un Comunque Le sue ideologie Le sue idee Quindi tipo Lui era uno che Ha detto che non avrebbe mai Fatto una pubblicità Ah Sì E come Mai e poi mai Avrebbe fatto Che ne so Tipo la pubblicità Di una macchina Assolutamente no Non l'avrebbe mai fatto Che altre pubblicità Non avrebbe fatto Per esempio Non avrebbe mai fatto La pubblicità Di Un film Mettiamo No mai Per nessun motivo Avrebbe fatto No neanche Ma tipo Se dovesse Pensare a pubblicità Di cose di internet Qual è proprio La pubblicità Che non avrebbe mai fatto lui Difficile pensarlo Perché comunque si è morto Trent'anni fa Quindi internet Mi metti un po' in difficoltà Però Penso che non avrebbe mai fatto La pubblicità Per un software Che Permettesse alle persone Di Di connettersi E guardare tutto Ovunque si trovino Nel mondo Senza virus Senza paura di essere intercettate Un software Che ti dà anche accesso A un password manager Questo Non l'avrebbe mai fatto Perché proprio Era una persona Tutta ad un pezzo Bill X Ma se dovessi dirmi Un marchio Che non farebbe mai Non nominerebbe mai Qual è questo marchio Secondo me Così su due piedi Guarda ti dico proprio La cosa che Bill X Non avrebbe mai fatto Era una pubblicità Per NordVPN Ah Mai e poi mai Sarebbe andato Sul link NordVPN.com Slash Tintoria Guardando La puntata Con Gino Paoli Mai e poi mai L'avrebbe fatto Va detto che Essendo una persona Tutto ad un pezzo Si sarebbe perso Uno sconto Clamoroso Perché è proprio Uno sconto Che forse pure Bill X Avrebbe detto La tentazione è forte Però Un uomo Retto Come Bill X Non avrebbe cliccato E non avrebbe avuto accesso Comunque sia A un software spaziale A dei prezzi Ipercompetitivi Sai cos'altro Non avrebbe mai fatto Cosa non avrebbe mai fatto Il grande Bill X Non avrebbe mai detto Basta un click Mai e poi mai Mai e poi mai Eppure questa Eppure stasera Possiamo anche Finirla qua Diciamo Sì E non so cazzi Perché di solito Questo è il momento In cui dico Adesso arriva l'ospite E poi lavora l'ospite Al posto nostro E invece questa sera Siamo noi Ti ricordi Siamo noi con una cartellina Con 200 puntate Sono tante e 200 puntate Tra l'altro il compiliano Sono sei anni E un po' di giorni Che facciamo questo posto E senza la cartella Proprio sei C'ho dei fogli Sono malissimo Potrebbe essere qualunque cosa Questo che c'ho qui Sembra quello che va a fare I concorsi pubblici Quei foglietti E viene cacciato Dopo quattro minuti Scusi lei Ma quelli sono fogli? No 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 E quello è il cellulare No 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 Ma quella è una birra Vabbè Ecco questo Magistrato Ma lei si è portato una birra Sì ma è in bicchiere Non in plastica Certo Ti ricordi Sei anni fa No Non dieci anni fa Quella era un'altra cosa Sei anni fa Sei anni fa Stavamo nella Nella cucina di casa tua Nella cucina Di casa mia E tu eri Tu eri dietro Io ero dietro Su un divano La prima puntata Te la ricordi Con lo Sgargabonzi Con lo Sgargabonzi Prima puntata Sgargabonzi Bella Era senza video E l'unica che non ha il logo Tintoria Ma c'è il logo Sgargabonzi C'è il logo Sgargabonzi Nessuno mi ha ancora denunziato Perché Gori è un amico Però è bella quella Le altre te le ricordi? No Sono belle le prime dieci Me le sono segnate Perché tu Sono belle Perché te non ci stavi No erano belle pure con te che ci stavi Puntata 2 Filippo Giardina Ah Vabbè Puntata 3 Matteo Corradini Che mi ha detto Me la mandi così ti ci monto Una musichetta sotto Io gliel'ho data Mi ha montato una musichetta sotto L'ho caricata su Youtube E Youtube me l'ha demonetizzata subito Dicendo ma sta musichetta Non è tua Grazie Matteo Ma quindi è rimasta lì la musichetta? Sì sì Ah c'è la musichetta? Sì sì C'è la musichetta di sottofondo Tipo lounge Questa è l'intuizione Dei grandi Dei pills Farmi demonetizzare La terza puntata del podcast Puntata 4 Pietro Sparacino Puntata 5 Saverio Raimondo Puntata 6 Carla Paul Comica Veneta Questo vado molto orgoglioso di questa puntata 1616 1616 De Rossi De Rossi Vabbè manca a fare così Però vabbè all'epoca erano No perché lei è comica italiana Veneta Che ha detto vada a fare stand up Nel nord dell'Inghilterra Lei faceva stand up Nel nord dell'Inghilterra Gran puntata Poi puntata 7 Luca Ravenna Puntata 8 Edoardo Ferraro Quindi ho già precursore Già vedevo Sinergia Dove altri vedevano Odio No ma perché odio Erano molto amici Puntata 9 Niccolò Contessa Ad oggi Unica puntata di podcast In Italia Con Niccolò Contessa Ospite Credo O comunque oramai l'ho detto E quindi Ci sta E puntata 10 Di nuovo Lo sgargabonzi Questa puntataccia Andò male Perché lui aveva scritto il libro Io non l'avevo letto Cioè tipo il pomeriggio Ho detto Sono Sono a Roma No Me lo ricordo Ma tu hai detto Oh C'è sta C'è sta Alessandra a Roma Fate un'altra puntata E io Il libro era Joseline 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 Non uccide ancora E io ho detto Ah sì ecco il tuo libro Joseline Non uccide Questo è l'inizio Una puntata Sbaglio il nome Vabbè Aspetti Fermo perché Perché ho chiesto Di contributi Ai nostri ospiti Insomma che sono venuti Alcuni rappresentativi E tra questi C'è proprio Alessandro Gori In arte Lo sgargabonzi Vai Se vuoi Ve lo faccio sentire Manda un messaggio Di saluto per noi Io sono stato Il primo ospite A Tintoria Infatti ero Nella prima puntata E nella decima Un ricordo Di Tintoria E quando Nella decima puntata Presentavo Il mio libro Joseline Uccide ancora E mi intervistava Il buon Tinti E a parte Che già dall'inizio L'intervista Lo pronunciava Joseline Uccide ancora Dico ma Ma non è detto Che è Joseline Joseline A tab Il Dix Joe Che è Autore Televisivo Presentatore Famosissimo Dico boh Chissà se l'ha letto Sto libro Poi inizia a farmi Delle domande Che Boh Mi toccava sempre Rispondergli Per non offenderlo E snì Snì Cioè È così Ma non proprio È più in quest'altra Maniera qua Io avevo l'idea Che sto libro Non l'hessi letto Che l'hessi letto Ken Follett I pilastri della terra E Fai conto L'hessi letto L'hessi letto L'hessi letto Per il mio libro Poi a fine intervista Tranquillamente Bellamente In diretta Perché oggigiorno In questa maniera qua Ci si deve vantare Di essere Di buttarle là Le cose E disse Che non l'hessi letto Sto libro Niente Io voglio dire Ma se al posto mio C'era Stephen King Allora te lo leggevi A me l'ha detto Se c'era Stephen King E allora Gli preparavi Il pasticcetto Di finocchio L'entrè Alla versa E il Il bicchierino Di Di chardonnay Top E invece a me no Anzi Conclusi l'intervista Con una domanda Perfetta Da fare a me Cioè Se io ci patisco Che in Italia Non fanno il discorso Della liberalizzazione Delle canne Ma a me di questi problemi vostri Non me ne frega niente Io vengo dalla campagna Da noi è uscito Oggi Il terzo numero Di Dylan Dog Le notti di luna piena Neanche brutto E io Di queste cose Non è di canne Non ne so Niente E in tutto questo Sarà intervenuto Rapone No Freddo Gelido Omertoso Come neanche Testimone Del Rapimento Soffiantini Bellissimo Bellissimo Io non ho sentito Non l'avevo sentito prima Questo forse L'avremmo dovuto dire Ah certo Sì sì Non l'ho sentito Le mie risate Erano sincere Anche per questo Ho spoilerato l'inizio Perché non l'avevo sentito Pensa che professionista Cioè L'ho sgargabonzio subito Ah ma certo Quella puntata Vabbè È andata così E quindi Bello Una bella Una bella storia Una brutta decima E poi dall'undicesimo In poi c'era il video Quindi proprio È cambiato tutto Meglio dell'altra Sì 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 C'era una GoPro Messa così Che inquadrava Bella La stanza Vabbè Che altro Che altro Che altro Si è fatto Poi era la storia È cambiato È cambiato tanto Ah tra l'altro Mi sono L'ho detto Mi sono rivisto La puntata 100 Per prepararne la 200 Tu la 100 La apri Mangiando la pizza E poi chiedendo Ma il Gaviscon Va mangiato Prima o dopo Sì E poi dici Gaviscon Ospite No Sponsor del podcast Gaviscon Sponsor del podcast È ancora un mio sogno Perché Perché stai sempre peggio Sono sempre peggio Io c'ho la birra Non volevo bere questa birra oggi Ho mangiato un hamburger Oggi Dei Pullet Pork Buonissimi Sì Però Però C'ho tutta una situazione Infatti C'ho il Gaviscon Qui in tasca Che non si sa mai Sì Mi bevo un po' di birra Per fare così Scena Scioglierlo dentro E poi Insomma La chiudo come dessert Con il Gaviscon Però appunto Sei George Best Sei però Gaviscon Nella birra Delle medicine Però Sarebbe bello Avere una fornitura A vita Di Gaviscon Infatti Io volevo Aprire Questa puntata Mettendoti alla prova Con La rubrica Sponsor che vorrei Ah dici Sì Che sponsor vorresti Cioè facciamo pubblicità gratis Certo Questo come sempre La nostra firma Adesso ne diciamo Dei brand ripetutamente E loro diranno Già mi avete fatto la pubblicità Perché dovrei pagarti La fai bere questa Peroni Peroni la birra più buona Da bere anche la mattina Ma qua adesso stiamo facendo Cross podcasting Buona buona Anche se fosse stata una Heineken Non avrei fatto storie Così io ormai mi vendo a tutti A tutti quanti Bill X scusami Perdonami Contrario di Bill X Però non mi pagano Quindi Lo posso fare E quindi tu che Che hai pensato A tu non hai pensato niente Zero Tu mi hai detto una settimana fa Pensa delle cose Se ti dico sponsor che vorrei Pensi qualcosa Mi stupisci No Non l'ho pensato Allora Se devo pensare Più che uno sponsor Io vorrei Vorrei Produrre delle felpe Delle felpe però Fatte a mia immagine Perché io Cerco delle felpe Sono tutte uguali Nel senso Cambia il colore Ma sono tutte così Da chi le compri? Le compro I negozi Sì C'è vari Non è uno solo Vuoi la marca del negozio? No no Mi chiedevo se c'è È una sola marca Ah e ce n'è Ma aia Perché aia? Questo non si può dire A bippiamo Fai brutta figura Perché faccio brutta figura? Fast fashion Sì però questa io ce l'ho Dal 2000 10 anni fa Ah ok Quindi Nel sud-est asiatico Stappano bottiglie Quando guardano la puntata 200 Grazie Stefano Questa Fast Questa dura da un sacco Questa Che una volta E ce n'è Faccia i felpe per bene Mo invece È vero Questa non si trova più E ce n'è Però capito Non si trova È vero Scompaiono Vedi le felpe Non è che dici Vabbè Negozio Compro una maglia Poi la ritrovo No Dopo 10 giorni Non c'è più Eh sì Come dicevamo Poco anzi Fast fashion Però Cioè uno Non crei affezione Dal pubblico Perché vado l'una volta Alla speranzoso A dare i miei soldi Invece Tu vai là Speranzoso vestito Dicendo Vorrei replicare Quello che ho addosso Esatto Vorrei essere come Per favore Ripidatemi Uno di uno di tutto Esatto Allora dicono Guarda mi dispiace Ogni felpa È un orcrux Di una persona Nel sud est asiatico Quindi Possia uno Ne fa una E poi Vero E non me Non me trovo più E quindi Quando si romperà Questa felpa Nel sud est asiatico Morirà un operaio Perché ha messo tutto Anzi sei stato fin Troppo bravo No ma infatti Lo tengo in vita Perché diventa Parte di me Anzi questa Penso a un certo punto Farà come Il giubbotto di Fonsi Lo metto sotto Formalina E diventa una cosa Vive di vita propria No però appunto Tutte uguali Non è che ci stanno quelle Partiamo pure un po' sporca Vabbè Però dico Non ci stanno quelle Cioè io magari Non è che chiedo tanto Ma magari una Una righina qua Capito Una righina gialla Qualcuno sente questo problema Cioè non è tanto Una righina gialla Sì che segue Sai come tipo Quelle dell'Adidas Bravo bravo Adidas si può dire Perché è sponsor da Roma Capito Che segue qui Se vuoi tre righine gialle È già risolto il problema No perché quella È tuta acetata Che poi sudi Si sente E poi c'hai Non c'è il cappuccio Cioè tutta un'altra cosa Rispetto a questa Non so Cioè secondo te L'Adidas Uno dei brand più importanti Fa una sola felpa Fa un modello di felpa Quello che stai dicendo Non fa quelle col cappuccio Così E non li fa con questo Tessuto Morbido Che solo Icenem C'ha Questo poliestere Insomma Raccolto Capito Cioè vorrebbe essere Beh così no Cioè una righina Poi un'altra Te la fai magari bicolore Che non so Uno può sbizzarrirsi Invece nessuno fa queste cose Quindi non vorresti fare Tipo felpe rapone Cioè vuoi fare Felpe disegnate da te Però Cioè puoi entrare nel fashion Varie Varie felpe Diventi diverse Non ho trovato Chi me le fa Personalizzate Però questo è un appello Potrei farlo Sì sì Ah tra l'altro un altro appello Allora io una volta Ho sentito un ragazzo Scatenato Che ha detto Ah volevo fare Volevo farti delle scarpe personalizzate E mi ha detto Ah dai è figo E poi ho perso E poi ho perso il contatto suo Quindi Contattami Questo Volevo solamente dire Le scarpe personalizzate Come le vuoi? Non lo so Perché Non è facile la scarpa Sì Quello è difficile Sicuro fai una cafonata Perché io penso Ci metto freezer Però poi sembro un bambino C'hai capito? Devi sapere che La Nike E così abbiamo fatto Uno a uno Faceva Tantissimi anni fa Le silver personalizzate C'è presente le silver? Quelle da coatti Ah beh Invece le altre Nike Quelle proprio da senatori Però faceva le silver personalizzate E io me le feci Pagando tra l'altro Una cifra Che per quando avevo 18 anni Erano tipo Tutti i soldi 200 euro Letteralmente tutti i soldi Che hai Per i tuoi 18 anni E erano tipo Blu Però le facevi sul sito Quindi non vedevo bene E avevo visto tipo Blu pitonata E ho detto Bello Sarà un bello effetto Quindi era base Blu pitonata E poi le striscioline Così Quelle Eh Della silver Era una gialla E una rossa E sulla linguetta E di questo ne vado orgoglioso Qua c'era scritto Daie E qua c'era scritto Roma Indossate anche A due primi appuntamenti Bene Uno è andato bene Uno è andato Andato bene 18 anni Uno pomiciato Uno non pomiciato Quindi comunque Comunque tiravano Quel pitone Era una cosa Secondo me Non le vedevano Perché Quando arrivavano A vedermi le scarpe Secondo me La finì per il date Però se non le faccio di vedere Però ero molto orgoglioso Di quelle scarpe Eh beh no Sì appunto Potremmo Puntare sul personalizzare Le cose Quindi questo No mi serve Una bella risposta Per essere impreparato Sì sì Non vuoi chiedermi io invece Ah sì certo Se vuoi Anche tu partecipare Che vorresti Grazie alla domanda Stefano Allora A parte Ziquil Dico proprio il brand Non Melatonina Ziquil Perché le fa Rovazzi Ma anche il Capitano Quindi magari Un first contact Non sarebbe male Però ho iniziato a usare La Melatonina Gradisco Soprattutto in tour Melatonina E vai lungo Se devo prendere Treni molto lunghi Anche Melatonina Prima di prendere il treno Che è proprio La rivoluzione Un po' ti svegli però Un po' ti svegli Sì di solito A Torino No però ho capito Se c'hai Adesso ho preso Un Metaponto Roma Proprio Melatonina Serenissima Metaponto Non era un poeta No Qualcosa del genere Non lo so Io ho fatto Maestro Metaponto Fatto Fatto lo scientifico Non potrebbe essere Io che ho fatto il classico Dovrei sapere tutti i poeti Quindi fammi pensare Un attimo Se è il Metaponto Comunque È un comune Vicino Policoro Dove si mangia molto bene Che hai mangiato? Peperoni Aspetta Dopo lo spettacolo Mi portano a mangiare Portano due taglieri Io dico Ah che bello i taglieri E comincio a mangiare i taglieri Pensando Questa è la cena Poi arriva Il pastiz Che so tipo Delle empanadas Piene di varie cose Cosa tipica Di Policoro Mi mangio il pastiz Dicendo Mazza che bella cena Poi arrivano Le salsicce Con Le Le rape Buono Le cime di rapa Buonissimo Proprio saporitissime Dico Madonna So sfondato Poi arrivano Le lasagne di zucchine Questo Ogni 12 minuti Quando tu pensai Abbiamo finito Era mezzanotte e un quarto Sono arrivate le lasagne di zucchine E poi dopo sono arrivati Dei peperoni Ripieni di provola E dopo hanno detto Adesso vi porto Il primo Sono in fin di vita Ti supplico Domani c'è un treno Metaponto Roma Ti imploro Fammi andare a casa Per cui a Policoro Si mangia Si mangia molto bene Per cui Ecco Melatonina Ziquil Polemica sulla Ziquil Che se no Sembra che mi pagano Il barattolone grosso Della Ziquil Le Ziquil Si incollano tra di loro Quindi dopo un po' Vero? Non ci arrivi E stai là che la notte Prima di dormire E stai là e fai E te seghi le dita E quindi devi prendere Io c'ho sul comodino La forchetta per le Ziquil Che comunque non è modo di vivere Ah che c'è sul comodino La forchetta per scavare le Ziquil Faccio tipo mining di Ziquil E tiro fuori le Ziquil per me La mia ragazza Tac tac Buonanotte Ma sono pericolose? No Cioè se tu mangi Troppe Ziquil Grazie alla domanda Allora Io penso di no La melatonina è una cosa naturale Fa benissimo Io pure che comunque penso sempre Cioè vado a rota Poi senza di queste Non dormo più Invece quando non ce l'ho Dormo come quando non ce l'ho Cioè magari Leggi e dormi Oppure Quelle mi servono Perché adesso C'ho una certa età Se bevo Poi mi sveglio per andare in bagno E non mi riaddormento più Con la melatonina mi sveglio per andare in bagno E mi riaddormento La svolta No Rigo Parla di droga A me crepa uno per le Ziquil Un podcast sprecato Sprecato Quindi ecco C'è questa problematica Della Ziquil In casa del barattolo Vuoi sapere se Vuoi dirne un'altra tu? Un altro sponsor A Playstation Beh che comunque posso dire Strano che tu già non sia Cioè Ridicolo che non ti abbiano mandato la Play 5 O te hanno mandato la Play 5 No ho comprato la Coysold Purtroppo Una delle cose Cioè a me La cosa che piace di più Forse qualcuno sa È scroccare le cose gratis Questo c'è un piacere Va detto È la tua passione Forse numero uno C'è anche cose piccole Non è che devono essere Ah Sto appeso sta roba No anche Che appunto Una Ziquil Quella a me fa Mi affascina molto Di te Che comunque Se c'è scritto Regaliamo Stefano entra Ditemi Ditemi È vero È vero Sì Tipo c'è un'inaugurazione Per me è il giorno più bello Del mondo Vi danno queste pizzette Normali poi Poi invece io Me ne mangio Poi sai cosa mi fa impazzire di te Che comunque Se c'è scritto Che regalano qualcosa Dal momento in cui tu Ottieni questa informazione Per te quella cosa Ti è dovuta Quindi Se poi entrano un posto E fa Purtroppo abbiamo Finito i flutti di champagne È come se qualcuno Ti avesse rubato lo champagne Ah il mio champagne Vabbè ma Dieci metri fa Manco sapevi che c'era Entri Do sta lo champagne È finito Pezzi di merda Il giorno più bello Che è successa questa cosa Stavo andando Con un mio amico Perché all'epoca Eravamo più poveri Eravamo andare a Reddi Roma C'era una pizzeria Che tipo dopo le otto Faceva la pizza A metà prezzo Cioè quella che rimaneva Te la davano così Quindi andiamo là A mangiare così E mentre andiamo Sulla via Sulla tuscolana Abbiamo trovato Un'inaugurazione Di una palestra E c'era Io che non faccio Sporto amico All'epoca Era un po' cicciottello Quindi chiaramente Eravamo persone fuori luogo In mezzo a questi palestrati Abbiamo detto Entriamo Ci siamo mimetizzati Insieme a questi Inergumeni E abbiamo mangiato Un sacco di pasticcini Tramezzini E non siamo più andati A mangiare la pizza Perché ormai eravamo sazi Quindi è stato molto Bello Quindi Questa è per dire Regalate la Playstation A Stefano Eh no l'ho comprata L'hai comprata Regalate videogiochi Qualche videogioco Qualche videogioco Mi lo regalano Allora stai che vuoi Qualche joystick Vorresti Che costano 2000 euro Pure la Switch Che a questo punto Facciamo così Potrebbe essere Ma te l'hanno regalata La Switch Sì Ah e allora No no I giochi I giochi I giochi I giochi Che giochi vorresti Siamo già arrivati I videogiochi Siamo una frutta Regalati Super Mario Super Mario Super Mario Super Mario Mamma mia Sei proprio Lo sparring partner Super Mario È uscito Quello nuovo Wonder Non mi hanno mandato Quindi Si è perso Si è perso Quindi Però beh Comunque è bellissimo Quando arrivano le cose Grati Poi le lasci Manco ci giochi A volte stanno lì C'è alcune cose Ancora incelofanate Infatti È proprio il bello Io ho la pezza Con le cose Perché se io ti chiedo qualcosa E te me la regali Sono felicissimo Però ogni tanto Ringrazio tantissimo Tutte le case Detrici che lo fanno Casa mia È piccola Se mi mandi 50 fumetti Io do li metto I miei stanno in cantina I tuoi Do li metto Se li volevo Me li compravo So 20 euro di fumetto Me lo compravo Invece Boh E poi devi fare la storia Grazie mille Col cazzo Mi stai rovino a casa Se volete fumetti Me li compravo Io mi compro i fumetti Ancora mi compro i fumetti I miei stanno in cantina A marcire Figurati Vedo a te Così doppioni Tanto se li mandano a me Vuol dire che a te L'hanno mandato I dieci mesi fa Hanno detto Ah c'è sta pure quell'altro Poi a lui mi sa Che piacciono i fumetti Diamoli pure Come si chiamano È così Cioè comunque Mondo fumetti Mondo videogiochi Prima li mandano a Rapone E poi dice Ma non c'è stato No perché io lo dico Dico da mandatemi le cose No invece io dico Io faccio un messaggio Ancora migliore Mandatemi solo le cose Che voglio E cosa vuoi? Eh lo devono sapere loro Qualcuno attossisce Ok scusa Allora lo sento La cosa nostra Vai È vero Sì Che cosa voglio? Voi non sentite? No vabbè Questo l'avete sentito? Qualcuno ha vomitato Questo si è sentito Per fortuna Perché questo è Questo è un professionista Perché ha detto Non mi hanno sentito Ecco sì Stiamo a teatro Non è che poi Sembra che si inventano le cose Quindi che vuoi tu? Ti dico io che cosa voglio Un rasoio Ma che rasoio? Allora Non so se sapete Che io Non ho i capelli Si intuisce Però Non avere i capelli Così È faticoso Perché te li devi radere Costantemente Vedo un po' Di riflessi Che annuiscono Colpiti dalle luci Che fanno Flash Flash E io E io uso il rasoio Quello Quello Che non è quello Capito Il testo a D Sì ma già l'hai detto Nella puntata Che uscirà Eh ma loro Non l'hanno vista Ok Ok sì Hai capito Sì sì Ecco Io uso Vado coi brand Io uso il Philips Me l'ha regalato mio padre Lo gradisco Perché Cosa che gradisco Io poi Sto a far proposto scopa con quello che ho detto, una puntata che uscirà fra un po', perché i capelli rimangono all'interno della capsula, quindi non lo vuoi fare al computer però ho pensato ma se fosse meglio il brown quindi io vorrei un po' farmi contendere tra Philips e brown per diventare il loro sponsor ma sai che vorrei proprio vendere il mio profilo Instagram, io sono un po' contrario a fare quello che l'influencer, grazie per avermi chiesto cosa mi era di capelli, però visto che tre volte a settimana sono là se faccio una storia e qualcuno mi desse dei soldi io, coscienza pulita, sto sbagliando la coniugazione costantemente ma tu sei shave like a bomber o a king o shave like a king grazie della domanda io forse mi sento sinceramente tra bomber e king io andrei dai king istintivamente perché bomber si porta dietro anche tutta una cosa di bomberismo che va oltre il calcio mentre invece king è sempre king tranquilla questo self explanatory non serve spiegare ancora più sì quindi tu faresti una pubblicità che sei su perché poi king era pure la barba c'era anche di barba e non c'è una una categoria per Gillette Gillette faceva proprio i pelati Gillette andava con i pelati però io la barba me la tengo capito? però se Gillette vuole andare nell'underground siamo io Cicoria noi siamo tutti però per farmi pure la barba a pelle Gillette mi deve dare delle cifre 70 euro a settimana almeno altrimenti non lo faccio però ecco se Brown e Phillips mi arrivassero poi con questo intendo se Brown e Phillips mi scrivono su Instagram io comunque non gli rispondo quindi difficilissimo per loro collaborare con me quindi non credo che succederà ma la butto là va bene vuoi sapere se ne ho un'altra? ma guarda stavo per farti questa domanda ne ho altre due le dico veloce così progressiamo a un altro topic la prima già ne avevo parlato nella puntata secondo me nella puntata in cui eravamo da soli al monk che è il dottor Ciccarelli cioè il prodotto per non farti puzzare i piedi io come molti altri esseri umani ho i piedi che sudano e quando i piedi sudano soprattutto l'estate può darsi che puzzino ma con questo prodotto strepitoso ti metti il prodotto nella scarpa è una polvere e i piedi non puzzano più ti cambia la vita totalmente dottor Ciccarelli sono l'unica persona che parla del timodore vienimi a prendere andiamo insieme verso l'orizzonte sono solo non lo posso più fare ho già fatto due puntate vieni da me vieni da me tanto tutti i giorni metto il prodotto faccio la storia prodotto ale gifted no come si dice si si ad dovevo farci una fiction sul dottor Ciccarelli tipo c'era una moria di puzza di piedi no ma il dottor Ciccarelli era lì pronto con una soluzione si 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 ho trovato una soluzione grazie bellissima me la vedrei fatta da chi lo farebbe il dottor Ciccarelli Beppe Fiorello lui sarebbe un bravissimo dottor Ciccarelli uno strano perché sa fare ma sa anche no no perfetto sa fare anche la faccia contrita da puzza di piedi è il dottor Ciccarelli che fa purtroppo a questi bambini a questi adolescenti i piedi continuano a puzzare almeno fino a domani dottor Ciccarelli è vivo purtroppo l'abbiamo perso guarderei forse produrrei volentieri la serie del dottor Ciccarelli ce n'è un altro perché se no io ho l'ultimo prego allora il prosciutto San Daniele nel senso secondo me si scrive da solo io ho l'unico problema che ho col prosciutto San Daniele te intanto ti disinteressi ma va bene così Stefano lo sto vedendo una scaletta il mio nome su Instagram è pure già San Daniele Tinti grasse risate proprio un'intuizione chiamarlo così però il problema del prosciutto San Daniele è che se loro mi regalano un prosciutto intero io divento quello che in cronaca muore perché si è mangiato il prosciutto perché se io ho del prosciutto crudo a casa lo mangio finché non c'è più il prosciutto crudo a casa quindi se ho un prosciutto io mi mangio un prosciutto e non mi faccio più le canne ecco guarda ti dico io sai come morirò un giorno un amico dice ti lascio sta canna qua io mi faccio due tiri di canna e San Daniele mi ha regalato il prosciutto e io muoio muoio la mia ragazza non c'è per fermarmi per dirmi vedi che io crepo morirò così io è così che morirò mangiando tipo quattro chili di prosciutto in mezz'ora altro è la melatonina mi accascio col prosciutto che rotola via dalla mano arrivano i paramedici e dicono è inutile che proviamo questo si è mangiato una gamba di prosciutto è morto quindi si muore di prosciutto mi stai dicendo si muore senza alcun dubbio di prosciutto si può morire di prosciutto se ti mangi una un prosciutto muori oddio possiamo vedere cioè ti faccio sapere cari prosciutto di San Daniele vediamo a quando muoio o comunque quando perdo conoscenza forse è così però non chiamo molti sponsor cioè non è così che si che si seducono i grandi brand dici buono da morire queste cose ci siamo ci siamo e divento subito martire proprio come San Daniele madonna si è scritta da sola perfetto si è scritta da sola vabbè e vabbè e quindi questo bello sì ma io c'è una domanda che non c'entra niente io mi sono comprato le scarpe nuove che sono di un numero più grande di che materiale eh non lo so ah non lo sai no da internet ok come si fa cioè ti sei comprato le scarpe nuove da internet ma di un numero più grande e niente te la sai che brand non è un brand sono a forma di cioè come posso dire tema VHS cioè sono delle VHS fatte scarpe non ho capito eh come lo spiego sono belle sono tipo scarpe nere e gialle nere e gialle che ricordano la cover di una VHS di una VHS teori quando compravamo le VHS non guardavamo piccoli e c'erano alcune che erano ne so bianche agfa che ne so così poi c'erano che c'erano eh non lo so io ero più piccolo di te non mi ricordo i brand e questa era gialla e nera e quindi sembra ricorda un po' la VHS e è proprio un numero più grande di quelle che dici non me le posso mettere sembro te le spalle a Bob no no la posso mettere però se cammino mi esce fuori il tallone e con una bella suoletta ho provato a fare sono andato da si fa mi sa da Decathlon altra marca si può dire vai 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 che c'è H&M e poi di fronte a Decathlon quindi ho fatto questa è la cosa che faccio stiamo parlando di uno specifico centro commerciale sì Appio che stanno di Appio mettiamo i puntini sulle le lumache i fan di Appio le lumache c'è anche dopo il Gangart un sacco di cose c'è stato un sacco di roba bello non ci pagano però siamo contenti di essere così siamo generosi nei confronti di Decathlon che c'ha bisogno perché se non era per noi boccheggia Decathlon e ho chiesto a una commessa guarda io ho queste scarpe grandi mi le ho portate a casa tra l'altro poi c'erano degli yogurt nella busta quindi avevo questa impelle c'era pure che si scaldassero questo yogurt quindi ho fatto tutto di corsa questa roba e praticamente ho detto sì guarda le suolette stanno lì e ho detto ma le posso provare e mi ha detto sì basta che non rompi la scatola come hanno fatto tutti gli altri c'erano tutte queste scatole rotte di suolette e quindi ho aperto queste suolette che ho detto tutte voi appiccicose tipo le manine che mettevi tutte così quindi le prendevo in mano spolverate e le ho provato a mettere dentro però il problema rimane che sempre il tallone esce fuori poi non so se erano le suolette migliori quelle lì e poi le ho rimesse lì nella scatola tutta a posto quindi ci sono persone che indosseranno suolette calzate da Stefano Rapone sì però se le riconoscono perché hanno la scatola distrutta le uniche con la scatola normale sono quelle sì non so non puoi rimandarle indietro e dire in Cina in Cina comunque le diet i lavoratori capito fanno là che ne so io certo ma sicuro una manifattura ricercata antichissima la tradizione delle scarpe a forma di VHS quelle so poi se non sosteniamo la Cina figurati la Cina è la nostra migliore amica esatto quindi non c'è non c'è un modo per mettere delle solette di tallone sicuro c'è un modo se questo fosse calzoleria lo sapremmo invece a Tintoria invece calzoleria è un locale ormai chiuso sulla pre-nestina vedi e questa è la mia istanza che altro devo comprare i pantaloni questo è un problema che pantaloni devi comprare questo però è un po' un tema perché tu e io mi pare adesso do io e te abbiamo sempre gli stessi pantaloni da quando ci conosciamo più o meno che è un problema cioè io fatico molto a comprare dei pantaloni proprio non ho una repulsio perché se arrivo in un posto se io vedo tutti i pantaloni appesi già comunque penso magari fallite cioè perché no proprio divento nemico istantaneamente ma è più un problema mio non puoi sapere se i pantaloni ti stanno bene finché non li provi però già che li devo provare me ne vado a casa e quindi ho cominciato a non entrare nei negozi quindi ho di solito due pantaloni nella mia vita che ruoto e poi ogni tanto entra ma in modo strano un altro paio di pantaloni che mi piace e io penso ah che bello ho tre pantaloni in quel momento il destino mi punisce e toglie uno dei tre pantaloni e riventano due e quindi siamo sempre a una rotazione di due due e mezzo cioè c'è una una window di un mese in cui ho tre pantaloni e penso mi sono venduto alla moda cioè proprio ma talmente tanto non compro i pantaloni che questi qua sono rotti e li ho fatti riparare perché tanto non volevo sono andato dicendo la prego metta l'inquadratura di tintoria a snodo abbiamo provato non si può fare si vede il pacco e io comunque ho i pantaloni squarciati e ho detto non li compro lo stesso tengo lo squarcio dei pantaloni cioè sono riparati adesso si vede altro jeans non è che non stiamo qua a fare spettacolo però io pure non li cambio però non li compro nuovi e c'erano altri che però mi stanno piccoli quindi non lo vuoi dire ci sono ristretti ci sono ristretti con i lavaggi quindi qui non li posso mettere e quindi ho questi che sono tipo però c'erano tipo dei segni che non dovrebbero avere tipo sbrillentati non lo so c'erano delle cose sbrillantati sbrillentati come si dice sbrillentati si un verbo italiano si dice no che vuol dire sbrillentati smagliati sbrillentati vedi ho imparato qualcosa di nuovo e quindi è questo è il mio problema è un bel problema però il resto senti ti dico un po' di cose che sono cambiate negli ultimi anni da quando facciamo questo podcast quando abbiamo cominciato l'Italia era un paese di centro centrodestra e noi facevamo battute sull'estrema destra adesso l'Italia è un paese di estrema destra e noi imperterriti continuiamo facciamo battute sull'estrema destra la domanda che ti voglio fare è ti senti mai responsabile no però non responsabile tipo figurati sarebbe troppo bello sarebbe se fossimo noi responsabili però c'è che tipo dovremmo stare più attenti a quello che perché per me è molto chiaro che noi scherziamo le cose su cui scherziamo mi sembrano evidenti però pensi mai tipo forse ogni tanto non ci stiamo a regolare ma guarda no cioè nel senso certo lo puoi pure dire però è chiaro la realtà è molto peggio di quello che possiamo di noi noi qui no? sì sì no sembra anche a me però ogni tanto penso vabbè a che punto si smette di fare cioè appunto i saluti romani si possono fare a Calarenza perché sono commemorativi la polizia può menare ora vediamo se può menare però mena i ragazzi a Pisa tutto bene noi siamo là a fare tipo erduce erfascismo e poi a un certo punto cioè siamo là a fare tipo ah no proprio erfascismo capito? allora per ridicolizzare questa cioè comunque è una valvola di sfogo nel senso che stanno quelle robe lì e non diciamo erduce così invece cioè dicendo pensa che coglioni che siamo se dicessimo veramente saremo no vabbè per me io essimo veramente suppongo anche con la speranza che poi quando invece ci sarà da essere podcast di regime noi hop ah certo guardate abbiamo già fatto guardate questo è il nostro facciamo un reel un tintoria no l'aveva fatto qualcuno ne avevamo già parlato una puntata c'è uno che aveva fatto un montaggio tutte le volte dicevamo il counter della parola duce che c'è stata no qualcuno aveva fatto un montaggio di tipo otto minuti di tutte le volte che viene detto duce fa mega ridere cioè fa super ridere poi fa preoccupare ma dura talmente tanto e poi fa di nuovo ridere quindi per fortuna se diciamo un altro po' poi fa di nuovo preoccupare però a quel punto insistiamo finché non fa mega ridere e avanti tutta si vorrebbe fare un drinking game ogni volta che diciamo duce uno shot uno shot di sambuca tra l'altro Joe Rogan la provarono a cancellare perché avevano fatto il montaggio di tutte le volte che diceva però la Enward pure là c'era quasi sempre un contesto però pure lui ha detto visto così tutto vicino non era non faceva un bel effetto e ti dico io un po' su cosa mi faccio degli scrupoli sulla droga a volte mi preoccupo perché comunque io dai e dai ogni puntata chiedo la droga poi ultimamente stiamo pure chiedendo non solo la marijuana le altre droghe e io ho sempre un po' la paura che capito cioè comunque sia il discorso sulla droga secondo me è importante farlo è giusto farlo però poi uno dice ah fammi provare questa famosa droga di cui ho sentito parlare nel podcast però poi ci ho pensato tanto e ho anche pensato sai che c'è se ti guardi se cominci a drogarti perché hai guardato tintoria forse questa cosa cioè non è un problema mio nel senso non può essere che in un podcast senti parlare di cocaina e dici ah mo la provo e allora però non è cioè se era se la barriera era non sentirlo a tintoria allora forse quella barriera non c'era no però comunque ogni volta che viene qualcuno che dice questa roba dice brutto ho stato male no no infatti io tra l'altro facciamo questa cosa no perché io a tutti gli ospiti ho sempre chiesto la legalizzazione chiedo il rapporto tra utilizzo della cannabis e creatività siamo alla puntata a 200 e 200 ospiti hanno detto no non c'è nessun rapporto scrivi cose che pensi sono belle e poi fanno schifo c'è anche due studi scientifici ci sono adesso questo è un articolo dell'internazionale che dice che spesso chi usa questa sostanza la cannabis ha l'impressione che le sue idee diventino più originali e ingegnose ma secondo uno studio è solo l'effetto del buon umore indotto e c'è questo articolo quindi questo è cioè visto che è la domanda che ho fatto forse è la domanda che più è stata fatta all'interno di questo podcast in 200 domande mi sembrava mi sembrava giusto citare questo articolo che si apre con una citazione che dice scrivi da sbronzo correggi da sobrio dice una famosa frase che è spesso attribuita forse erroneamente a Hemingway quindi inizia con una citazione senza sapere di chi è questo è il vostro internazionale no comunque dice no che c'è uno studio per cui essenzialmente tu se sei fatto pensi di aver scritto cose migliori più creative ma non è vero che hai scritto cose più creative hanno fatto fare varie cose creative che poi voglio vedere quali erano queste cose creative alle persone e quelli che avevano fumato pensavano no sì sono più creative ma non era vero che erano più creative quindi c'è questo articolo qua che risponde alla mia domanda e ci sono tutti gli ospiti che rispondono alla mia domanda e io volevo dire nella puntata 200 che tutte queste persone hanno torto e hanno tutti sbagliato c'ho ragione io c'è una relazione tra uso della cannabis e creatività internazionale e 200 ospiti sono dei coglioni non capisco perché si ostinano a dire sta cazzata che c'è una correlazione ma proprio chiara limpida se ti fai le canne sei più creativo e gli studi sono sbagliati questo ci tenevo a dirlo la domanda non finirà continua perché c'ho ragione non sono d'accordo no lo so perché te non ti fai le canne se tu ti facessi le canne non sai che comici da fare ehi ragazzi sono no ciao ragazzi sono un po' preoccupato a mio padre mi ha diagnosticato la sindrome di Down e forse la fai l'imitazione di un Down e tu ti fanno Stefano troppo 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 torna indietro ehi mi sono fatto un bong madonna speriamo speriamo mi faccio poi tra l'altro per me c'è nel senso io i primi sei anni in cui facevo stand up scrivevo solo dopo aver fumato e ancora adesso io scrivo lo spettacolo poi mi faccio tre tiri di canna lo rileggo e ci aggiungo tipo dieci battute di cui cinque rimangono è proprio cioè sei più creativo quindi amici amici amiche vedi è anche perso il quello è però l'altra amica cioè fumate nel senso fumate drogate no ci tengo puntata a 200 adesso se parlare drogate vivi alla cultura dello sballo cioè io da adesso voglio smettere di preoccuparmi quando facciamo quando gli ospiti parlano di droga di fare eh no certo perché poi no ci parli di droga con una persona ci parli di droga cioè è bello è pericoloso non è che dobbiamo dire noi tutte le volte è bello è pericoloso ci ho pensato tanto a sta cosa lo ho pensato l'ultima vabbè l'ultima volta che sono andato a un festival comunque tranquillo però pensavo se un giorno i miei nipoti mi dovessero chiedere nonno com'era drogarsi io gli risponderò è stato bellissimo e ho proprio avuto questo pensiero e questo voglio dire ai miei nipoti non voglio dirgli no perché è importante te gli devi dire questo e poi so cazzi loro non è che puoi preoccuparti di tutti se dico così ai miei nipoti figurati a loro che gli devo dire siete adulti vedete che dovete fare sono d'accordo con l'allenatore Mancini che ha fatto la pubblicità contro la droga e diceva no come diceva tutte le droghe fanno male tutte le droghe sono uguali tutte le droghe fanno male poi è andato a allenare l'Arabia Saudita Mancio scegliamo un attimo l'etica dove la mettiamo perché l'Arabia Saudita a parte le canne ti ammazzano per strada ma pure tante altre cose cioè tipo tua moglie mentre tu allenavi l'Arabia Saudita che faceva? di sicuro non guidava per andare a fare mi fai la morale sulle canne e poi vai a allenare l'Arabia Saudita non so quanto 18 milioni l'anno quindi se l'Arabia Saudita in cerca con l'allenatore è scarso io vado domani però poi non farei la morale sulle canne ai ragazzi marchigiani e italiani mister Mancini è marchigiano è marchigiano? sì sì l'unica regione plurale d'Italia come gli Abruzzi tutte le volte gli Abruzzi da quando non abbiamo più i Molisi siamo rimasti solo siamo rimasti singolare e ti hai scrollato? no perché c'avevo anche un'altra notizia di Adinolfi che ha detto una cosa sulle canne e non l'ho trovata perché sai Adinolfi è un po' il mio spirito guida quindi no certo certo sai ce l'ha messa lì ma poi che altro ci siamo scritti qui? ah ci sono le la posso dire in tedesco questa cosa delle nostre battaglie come è il plurale? non lo so dov'è l'otto che c'è il tedesco? vabbè cercatela su google come si dice le nostre battaglie in tedesco quali sono? la prima è la tua le nostre camp campes campes spagnolo camp diventa tipo con l'S ah questa questa qui è una cosa che un ser camp ma dov'è questo? un ser camp questo è ottane questa voce di allora io ho questa battaglia che vado avanti da inascoltato da sempre che tutti i menù dovrebbero avere delle immagini Stefano tiene a questa cosa più di qualsiasi altra cosa impossibile andare a mangiare con Stefano senza lui e qua non c'è l'immagine vedi tutti dovrebbe essere metà in applauso e dice beh applaudiamo comunque Rapone se non applaudi sembra che sei stupido ma non hanno capito di che stai parlando perché c'è scritto di solito sì c'è scritto c'è scritto dove? sotto la cosa c'è scritto ci sta questo ci sta questo sì vabbè ma sono cose che uno non sa che sono cioè che sono il timo che è come è fatto cioè come che è vedi l'immagine ieri sono andato a vedere ma a parte il timo non so se lo vedi nell'immagine ci scrivono sale proprio l'immagine il sale qua no il sale sì però c'è altre cose io ieri ho mangiato dei capellini no che cavolo era tortelli di zucca con cose così e ho detto che sta roba sembra buona poi ho visto la foto c'era della spuma sopra tutto quanto non c'era scritto che c'era della schiuma da barba e qui ho detto però vabbè poi se lo so me la mangio magari è pure buona però almeno vedo quello che è fatto cioè io non so interpretare gli ingredienti e miscolare nella mia mente e pensare come viene impiattato questo piatto quindi ho bisogno del e poi comunque gli altri che mi prendono per pazzo come tutti i visionari sì io ti prendo per pazzo sono sincero ti prendo per pazzo poi però io le cerco le cose perché devo andare su Instagram del ristorante vedo la foto e loro dico chissà come io faccio ecco e c'era qua e quindi c'era vedi sì sì e quindi alla fine usufruisco di questo servizio che però io faccio manualmente cerco nella descrizione poi manco spesso nella descrizione non c'è scritto neanche quello quindi devo andare un po' intuito vedi i commenti capi quello quindi no certo certo prendiaci un momento godere del fatto che Stefano al ristorante va su Instagram del ristorante per cercare le foto del cibo certo voi non lo fate scusate che fate leggete leggete vi fate ispirare da che poi arriva un'altra cosa ma c'è pure bello quello che dici ah guarda la capa santa ma io esco per mangiare una cosa che mi piace se poi veniva un'altra cosa dico è rosico no sì no certo rosichi però fa parte del brivido poi comunque non è che proprio ti butti ma non è un'esperienza è merda dice vabbè non mi piacerà a me che c'entra io però magari leggo ah c'è il bacon croccante poi c'è stanno filettini di bacon io ho le uova invece la cosa di bacon per dire io me le immagino per me il bacon è quella dei cartoni animati no giusto boh non lo so questa cosa è vero che quando c'è però l'immagine mi fa molto posto che adoro tantissimo il ristorante cinese dove è sacrosanto che ci sia l'immagine anche i giapponesi fanno proprio la riproduzione 3D guarda voglio quello e infatti stanno avanti tecnologicamente più di più di tutti invece in Italia pretendiamo che sappiamo cosa sono in Italia ogni volta cose nuove da mangiare cose pazze così poi ti portano una roba vedi ma pure la quantità se vedi che è poca dici no non più quest'altra che di più i ravioli i ravioli per dire questa roba qui ah il raviolo mi mangi i ravioli che bello ne mangio 10 invece sono 6 ogni volta e comunque dopo 6 forchettato fino invece la pasta sono almeno 12 15 sono sono sincero mi stai mi stai convincendo ero partito molto prevenuto dicendo mo lo sfondo però effettivamente mettete le foto ma anche cioè no quelle proprio turistate fate una cosa pure come sappiamo fare noi italiani bella così una bella foto pagate giovani fotografi fai un design bello nel menù giusto si si no guarda mi hai convinto però quei menuri c'è quindi deve essere proprio un librone perché se c'è la foto vicino non è che puoi fare tutte le scritte vicino devi fare scritta foto scritta foto si un menù quanti sono i piatti in un ristorante 10 mi piace che stai sui numeri sei lanciatissimo 6 ravioli 12 spaghetti 10 piatti sul menù cioè anziché fate una pagina da fronte e retro ne fai 12 pagine spendi un po' di più di cartoleria però va la qualità no carta riciclata ci mancherebbe altro come vuoi plastificata cartone messato si si va bene va bene la fai giusto si no guarda so che ai fini del podcast sarebbe meglio se io continuassi a obiettare però sono a bordo però se fossi un ristoratore penserei col cazzo cioè non ti verrai mai dietro capito non vengo al ristorante dove vado a quello che vuoi foto invece ci vai invece ci vai cioè non è devo fare questo doppio coso di instagram poi se non è instagram è trip advisor quindi ti raccomando poi c'è proprio degli utenti che non si vede in casa non si capisce la devi intuire perché poi forse se c'è scritto tutto questo è uno spezzatino invece di tutto no gran bel posto così quindi rosichi pure perché c'è pure uno che ti dice una cosa che non ti interessa quindi oppure su google peggio ancora là che c'è stanno i matti cioè su google c'è stanno i matti sì 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 quindi no no è proprio una cosa il sito di ristorante ma fallo sul sito allora sul sito le foto non spendi neanche la carta niente neanche lì quindi dici qr code boom foto vedo la foto immagine video poi se non la puoi vedere fai per immagini e senza immagini facciamo anche incredibile lei gradisce il menu con immagini o senza immagini capito senza no è vero è che se ti dicessero lei gradisce il menu con immagini o senza immagini tutti diremmo con questo è vero bravo uno lo prende con perché gli altri dicono no io no e poi comunque sbirciano non voglio che lo facciano solo per continuare a godere del fatto che te sei a tavola e fai non mi prende instagram e tu dici vabbè non fa niente invece devi guardare le immagini eh sì quello è un bel momento quando Rosi ti alzi e esci fuori per vedere su TripAdvisor la foto di uno gnocco al ragù di cortile dicendo ma ma anche oggi ti ho chiamato perché non trovo un posto da mangiare perché non volevo entrare e guardare le cose cioè volevo vederle da fuori quando stavo ah tu vuoi pure la vetrina col cibo fuori da oggi cercavo perché te sei proprio un figlio degli anni 80 no perché io stavo io passavo davanti ai forni guardavo da fuori sbirciavo sperando che non mi vedessero perché se poi entro non mi piace riesco dicono chi è questo scostumato e invece non ha gradito ma fanno i commenti invece no se lo vedo da fuori come come mi fai riparo così e alla fine sono andato in un posto che conoscevo e alla fine è stato bene anche nonostante il reflusso giusto il famoso reflusso per fortuna in tasca c'hai il sole in tasca che serve basta poi ti sta riscaldando quindi non so che esce fuori adesso questo gavis con caldo che ti serve per stare tranquillo è proprio come la droga per i drogati ce l'hai in tasca per stare tranquillo se non ti viene l'ansia se non ti viene l'ansia esatto se non ti viene l'ansia questa comunque era la più importante della mia sì l'altra questa nostra battaglia questa camp forse basta camp intanto mi avvertite i paramedici che voi non lo sentite ma qua dietro una persona sta perdendo la vita che il vero problema del politicamente corretto per i comici è che in ogni intervista ti chiedono cosa ne pensi il politicamente corretto per il resto il politicamente corretto va benissimo l'unica cosa è che ogni volta devi dire che ne pensi il politicamente corretto e te devi dire grandi perfetto è vero lo penso poi c'è anche l'altra cosa che peggio di chi cammina piano chi si ferma in mezzo perché fin troppi meme sono stati fatti su chi cammina piano che è comunque una persona che cammina alla sua velocità tu lo odi però potresti essere anche tu nel torto che stai correndo ma chi si ferma in mezzo forse dovresti potergli dare non dico uno schiaffo ma una spinta cioè c'è presente che tipo lasciamo stare le scale mobili che in Italia ancora non abbiamo capito che da una parte si sta fermi e dall'altra si cammina e questo ok siamo un paese di buzzurri non lo capiremo mai non siamo a Londra ma se su marciapiede voi siete due e occupate tutto il marciapiede non vi potete fermare perché se no io vi voglio morti e la gente si ferma oppure sulla soglia del supermercato la porta è piccola vabbè il supermercato dove vado io ce l'avevo però c'è una strettoia quindi no se tu stai uscendo con le buste io sto uscendo con le buste che vorrei dire se tu sulla porta ti fermi per tirare fuori il cellulare io dovrei poterti rubare le buste cioè è una po se fai due metri più avanti no due metri due passi questo problema non si crea come fai a non vedere che stai in mezzo al cazzo ti devi levare e poi vabbè nei locali devi morire però c'è una cosa che proprio mi fa impazzire nel senso guarda lì non rompi il cazzo a nessuno qui rompi il cazzo a tutti come fai a stare qua come fai a stare qua allo stadio cioè stiamo uscendo dallo stadio siamo 9000 in questo settore stiamo tutti passando per questo lembo di cemento se ti fermi qua a parlare sei una testa di cazzo e te devono menare gli ultras impazziti che però hanno altre priorità hanno altre priorità giustamente salutiamo tutti gli ultras d'Italia a cui vogliamo sì scusa però c'è proprio una cosa che dice ah mi fermo qua boom a messaggiare e no pensa siamo 50 su sto marciapiede dobbiamo tutti passare là ma guarda io ho la soluzione sto ripetendo sempre la stessa cosa la soluzione per te perché l'ho vista una volta in un video anni fa forse quando stavo in Giappone che quando ci sono queste situazioni se tu ti porti un campanello da bicicletta e fai la gente si sposta anche se non c'è una bicicletta perché sentono solo il suono quindi potrebbe essere la nuova soluzione e quelli se ne vanno senza che devi stare di scusi no scusi perché poi scusi lo dici non tolgo scusi cioè lo dici proprio non stai chiedendo scusi dici proprio guarda se ora ti cade un vaso in testa conto fino a 400 prima di chiamare i soccorsi 1 2 3 4 ad alta voce 5 6 bello il campanello da bicicletta certo devi andare in giro col campanello da bicicletta sì però cavi, portafoglio, cellulare drin drin pronti a uscire ci penso sempre perché capita spesso poi sull'app c'è c'è un po' costantemente un po' delle stetto che ci stanno in alcuni punti sì perché poi Roma è macchina, macchina, motorino lavori marciapiede, muro come si chiamano le cose che hanno messo adesso nei bar cioè nei bar di fronte ci hanno i deor i? i tavoli fuori i door i deor i doors e e alcuni stanno lì cioè stanno proprio sul marciapiede quindi c'è dei momenti in cui c'è tutti che si mettono in un punto che ovviamente vanno alla loro velocità e tu invece devi fare stare là devi andare in un treno e dici oh se ti fermi lì dovresti fare drin drin se a drin drin non ti sposti devi dare una testata dietro sulla buca sì sì avevo suonato oppure ti porti anche una bicicletta solo a piedi vai fai drin drin se non si spostano gliela spacchi su boh non hai sentito drin drin forse fai drin drin a voce questa è una cosa mi fa avvelenare drin drin ah poi questo è importante non sono solo i vecchi siete pure voi questo è importante lo dovete sapere cioè guardatevi alle spalle questo è proprio oh non posso fermarmi oh posso fermarmi che poi è proprio sempre questione vabbè basta sto ripetendo sempre ma secondo te secondo te perché cioè è una mancanza no è una mancanza proprio di è una forma di intelligenza che alcune persone non hanno ma è sempre stato così o è di recente che c'è stata questa pandemia di di gente che perché non mi ricordo allora ti dico forse è sempre stato così ma io mo sto invecchiando e quindi mi rode il culo per queste cose e prima non me ne fregava niente però adesso proprio è un paio d'anni che vedo tantissime persone che dici fai 30 centimetri a destra e tutti ti vogliono bene perché tu pensi guarda che bello spazio stai fermo là e tutti ti vogliono morto come fai al di là dello spazio come fai a non percepire l'odio a me quello mi lascia a basire le persone tutti pensiamo e pensiamo brutta testa di cazzo e te non percepisci l'odio cioè vuol dire pure con le macchie allora in questa città di stronzi siamo tutti colpevoli in doppia fila non ci si deve fermare ci fermiamo tutti in doppia fila tutti tutti no io no pure tu tutti se c'è una macchina in doppia fila di qua questo cioè non ti vuoi mettere in doppia fila di qua perché se no si crea una fila ma come fai cioè fai 5 metri più avanti e nessuno ti rompe il cazzo 5 metri più dietro i camionisti ti urlano stronzo e tu non te ne accorgi che stai messaggiando sto continuando a ripetere la stessa cosa stai ti prego portami fuori da questa cosa stai sendo troppo populista ma perché ogni giorno ne vedo talmente tante si 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 che ci sto male non ci sto male non lo so lo so e che altro ci abbiamo le nostre i cookies ah si i cookies vi accetteremo sempre che passo indietro per l'umanità che ogni volta vai sul web devi fare accetta tutto ma perché tanto vai si accetto tutto tu hai mai fatto opzioni di cookies non mi leggere cosa vogliono da me queste persone esatto no siamo d'accordo che i cookies li accettiamo ma certo anche quelli non necessari no ma soprattutto quelli anche quelli cioè quello che fate quello che tanto non ce ne accorgiamo fate quello che volete chiamateci anche tanto già lo fanno cioè nel senso non è che si si fateci scrivere al vostro si si facciamo tutto facciamo tutto pur di andare a leggere la più grande stronzata ma neanche perché poi anche poi se pure vai a un giornale poi sta a leggere ti arriva una cosa davanti cioè come se tu stai adesso stai così a leggere una cosa arrivo io davanti a te ti metto guarda qua e ti giro e ti giro le notifiche di questo tipo super moleste tu ah certo e poi no vabbè si che dice no non le voglio ricevere però è quello piccolo messo così invece si le voglio ricevere è sul lato del no però è tutto bello luminoso polposo e tu vedi questo sarà il no è quello che voglio invece si ma anche sui siti giornali di news capito pure se paghi mi sa ci stanno sempre queste pubblicità che ti appagliano mentre sta a leggere tu dici vabbè sei maleducato no sì no tremendo non era così prima prima con i giornali di carta non veniva un segno a un pubblicitario a metterti le cose davanti no no al massimo tipo la fiat si comprava una pagina e dicevi ah è uscita la nuova croma pazzesco possiamo far così stiamo salvando il mondo ste poi che altro c'è tu qua ce ne abbiamo segnate tante tutte e due no sono finite perché poi le cose vabbè c'è questa qui vabbè è una battaglia che dovremmo ripristinare i sacrifici umani secondo me vorremmo farli in che cioè se ti va di ti va di spiegare nel senso che ormai c'è comunque che circostanza c'è molto odio online cioè se tu vedi qualcuno che dice una cosa sbagliata vuoi scrivere ah se la merda subito no cioè questa oppure cioè la cosa forse più grande è Sanremo che Sanremo è proprio un momento in cui tu speri che ci scappi il morto no cioè comunque tutti stanno no non vogliono vedere le canzoni no solo no la gente non vuole vedere le canzoni vuole vedere la gaffa vuole subito vuole vedere dove è Bugo sì no il morto però nel senso pure il morto e quando con Pippo Paolo c'era quello te facevi eccoci è tutta la vita che aspettavo in questo momento giù giù ma non io tutti tutti tutta Italia si fermano per dire speriamo che ma non solo che muoia così perché quello muore è spettacolo eccetera ma poi dici di chi sono le responsabilità e quindi puoi dare addosso è quello che capito e stai nel giusto puoi sfogare la tua rabbia la tua frustrazione puoi farlo lì però cioè la gente non se l'aspetta no questa cioè come diceva di Montivito nessuno si aspetta l'inquisizione spagnola invece se fai se fai un sacrificio umano tutti siamo lì ma sacrificio umano però ho capito che sfoghiamo ma chi chi è che viene sacrificato cioè deve uccidere uno cioè tipo in Italia no li cresciamo apposta per essere sacrificati interessante o sì o li cloniamo però da dove li prendi cioè qualcuno fa un figlio e viene sorteggiato ogni centomilanati fai guardi non so che dirle purtroppo ha visto le estrazioni dell'otto no magari l'otto superena l'otto vittima sacrificale tocca al suo eh vabbè se questo è stato e consegni la prole no però magari fai o fai a Guido Crosetto che è lui che si occuperebbe dici perché c'è il fisico la boia no o fai dei cloni apposta che ne so non lo so quello non è compito ah dei cloni ci sto come la carne sintetica fai solamente fai dei cloni solo per ucciderli però posso dire una cosa se uccidi il clone tutto il senso del sacrificio si perde cioè se te dici oh puoi uccidere il mio clone lo faccio però non è che dici oh devi morire cioè devi morire questo clone ma è un clone proprio tuo che prova anche le cose tue tipo com'è che si chiama quel film spoiler questa è un'altra cosa che succede in questo podcast il film aspetta il film se non l'ho visto non lo fai Hugh Jackman e The Prestige l'hai visto? no già l'ho spoilerato no non mi hai visto le cose no l'ho appena spoilerato ho già detto quando lo vedrai dirai ah i miserabili no i miserabili i miserabili sì non sto parlando i miserabili esatto vabbè ma cioè il tuo clone è un clone cioè sei proprio tu che prova tutto quello che provi tu quindi io sto uccidendo se farò è pure solo un tuo identico a te ma nuovo nel mondo no ma se no scegliamo come c'è una faccia che poi ci repelle cioè decidiamo con l'ingegneria generica ma si vota ma si si fa come tipo Ciao Darwin no? ormai avranno un fenotipo della persona che tutti quelli che hanno perso a Ciao Darwin diciamo questo c'è stava ne so grassi contro magri vincono i grassi quindi vuol dire che evolutivamente questa scientificamente Ciao Darwin è questo sì non lo sapevo purtroppo non i magri non sono non saranno insomma il futuro non è dei magri ok e quindi sarà magro poi belli brutti così vincono i brutti quindi sarà bello cioè quindi crea una situazione già ce l'abbiamo un po' di dati da Ciao Darwin quindi Ciao Darwin sceglierà sì quindi là tra l'altro Ciao Darwin acquisisce tutto un altro peso cioè eh no certo mi sale almeno a livello i giochi senza frontiere perché le persone sono belle sì sì no si fa esatto si fa se sceglie un fenotipo tra quelli poi si fa se vota tra quelli lì e uno di quelli che ha perso Ciao Darwin Ciao Darwin che è una volta a settimana non so niente come si è pure finito però si si fa però lo ripristiniamo in un secondo se è ripristinato certo e creiamo una persona tipo quella e la è come il capo espiatore cioè tutti i mali no no ok e però come viene uccisa la persona e quello poi i modi creativi ci stanno insomma no ma tipo ok allora si si vede al Campidoglio ognuno tira un sasso no magari un rituale chi lo sa un rituale così veramente così ti dai tutto il tuo e che appena settimana non stai a scrivere le cose brutte sotto i video dalla gente o i tweet sono sincero non mi hai convinto tantissimo allora dieti l'odio social e poi la gente sta male si no si però in cambio di non uccidere le persone ma non è una persona vera è un clone un simulacro no ma sta cosa del clone no mi sa vabbè vuoi un animale preferisci no assolutamente no preferisco una persona no no una persona una persona una persona condannata ma è una persona di un animale per quanto tipo cioè non un mammifero mezzo lo ammazzi non un mammifero un pesce si un pesce lo uccidi pure quando te pari cioè che te frega pesce sacrificale a posto però forse non ti sfoghi niente cioè ti sfoga un un follow passivo aggressivo a uno che ti ha commentato su instagram quando si ride follow su instagram quello non lo fai se ammazzi un pesce no però uno non ti dice se non ti dice perché comunque la sua frustrazione l'ha messa su quella su quella cosa lì capito si no però deve essere una persona no va bene sono cioè capisco quello che dici però temo quando sarai sovrano dell'universo no ma questa è una proposta poi non è che dobbiamo fare cioè proviamo se qualcun altro comunque io la butto lì se qualcun altro la vuole fare in modo diverso cioè tipo i maglia che facevano che uccidevano i giovani i giovani quelli che perdevano a palla per dire eh c'è una squadra verde eh amaro forse sì forse troppo poi dagli e dagli finiscono i giocatori perché se ogni campionato però alla fine i gladiatori era così no? ah posso dire una cosa sui gladiatori secondo me non era così cioè era meno così di quanto cioè che diceva ci stanno i leoni e i gladiatori ci stanno i gladiatori che si ammazzano però essendo loro tipo mi sa che era più tipo combattevano poi uno perdeva però non è che ogni volta lo ammazzavi eh può che ne so no mi sa di no pure la cosa con i leoni le tigre ah combatti contro i leoni mi sa che non era proprio tipo combatti contro un leone che sennò durava 15 secondi era più tipo un po' tipo come nel gladiatore cioè la tigre mezza legata come nella corrida mezza dopata no no dopata mezza e quindi magari vincevi tu contro la tigre cioè secondo me pure tu all'epoca vincevo contro la tigre no tu no effettivamente tu no però comunque capito cioè non era proprio ogni volta io e te mo ci dobbiamo uccidere era più tipo adesso era più tipo wrestling più violento al colosseo quindi bellissimo in effetti la forma d'arte più alta mai concepita dall'uomo ancora una volta l'antica Roma ci insegna a vivere e noi qua Roma Termini ci abbiamo per dire questa città in che direzione è andata comunque stai mi dispiace sui sacrifici umani non mi hai non mi hai preso però noi ci possiamo pensare perché comunque c'è molta rabbia adesso e quindi ti fa sfocata in qualche modo io ho dato questa proposta e l'avremmo avuto in mente no no ma infatti ma infatti vedi che tu ci hai pensato ci hai pensato molto sì sì e che altro vai vai mi piace perché c'è tanti spunti non sono finiti faccio faccio sentire un altro messaggio che ci è arrivato ah vai bellissimo questo di di Pietro Sermonti vai il nostro amico vediamo che ci dice tutti quelli che sono lì in sala all'Ambra Iovinelli per la festa di Tintoria vi saluto a tutti e volevo ringraziare in particolare Daniele e Stefano perché grazie a Tintoria grazie a loro diciamo da quando è uscita la mia puntata non so se è successa la stessa cosa agli altri 199 di Tintoria soprattutto grazie alla rubrica cacare in discoteca io vengo fermato spesso da gente che ha proprio una pazza voglia di raccontarmi delle sue cacate tremende e niente grazie Daniele grazie Stefano in fondo è sempre stato il mio sogno quello di essere pensato mentre uno sta sulla tazza del cesso è comunque un approdo della mia vita della mia carriera un sacco di baci viva Tintoria oh che carino quando ha detto viva finale pensavo un'altra cosa invece no viva Tintoria viva Tintoria bene senti invece ti faccio una domanda un po' tua eh che testa è a guardare che mi sto a guardare allora mi sto a guardare una cosa di cui non posso parlare perché ho firmato una roba veramente vabbè grazie sei venuto mi sto a guardare una cosa non ne posso parlare però è una cosa bella che altro sto a vedere ma veramente questa è la tua risposta ho guardato una cosa di cui non posso parlare uno snuff movie no è una cosa è una cosa perfetta siamo tutti contenti per te Stefano grazie per questa risposta che ci coinvolge tutti quanti ho visto questo che vuoi che altro sto a vedere guarda spero che il prossimo ospite ti risponde questo guarda una cosa non te ne parlo prossima domanda che altro ho visto di recente ah mi sto vedendo Carbure Enthusiasm stagione 12 è uscita quella nuova sta uscendo adesso molto bella molto bella naturalmente la stai guardando senza coinvolgere pirateria di alcun tipo ma assolutamente io ho HBO a casa quindi e come fai ad avere HBO a casa è solo americana no no me la vedo me la vedo bella e lui ogni tanto mette lì c'è come sottofondo la sigla di Lupin quella con la fisarmonica ah sì che è strano c'è un binomio strano no l'italiana si c'è stato qualche episodio c'è stato ogni tanto la sigla di Lupin ma forse sei tu che la senti o è confermata no è confermata è confermata quella italiana non è quella giapponese no questa cosa scusa ma solo in questa serie di Carbure Enthusiasm anche quella scorsa l'ha messa una volta lui metteva la musica italiana di Lupin come musica nella sua una scena lui sta in macchina così a fare una cosa e c'è stata la musichetta di Lupin ma è confermata cioè nei credits c'è scritta questa cosa non è che per i credits però la riconosci cioè è inconfondibile dubito fortemente che sia questo il caso vabbè vediamo e come c'è arriva scusa è googla googla eh no ma lo faccio io te intanto adesso ci racconti qualcosa adesso cazzi un'altra mia battaglia ah vai vai non sapevo che sia altre battaglie qualcuno ha detto no ah ok siamo già alla contestazione se c'erano sacrifici umani questo non succedeva eh che stavo dicendo mia battaglia sigla di cartone animati giapponesi molto più bella di quelle italiane buu no sì no sì vabbè perché sono più violente sono più rock no sono più belle sono pensata per quella cosa la creano il mood invece noi facciamo le canzoni come se fosse tutto per bambini invece sono cose da adulti fammi tre esempi io intanto non sto trovando niente ma io sono anche una delle persone più scarse a googlare già Lupin già Lupin sì Lupin è fighissima no quella giapponese è pure musicale no 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 stiamo tutto il tempo a googlare sigle giapponesi quella italiana hanno fatte varie di cui la più brutta è quella di Giorgio Vanni tu sei un hater di Giorgio Vanni questa cosa mi dispiace molto poi ti dico anche un altro hater che mi ferisce però gliel'ho detto in faccia veramente sì quando gli hai detto in faccia quando abbiamo fatto una puntata di forse erano tutti a casa durante il covid è venuto Giorgio Vanni c'era Giorgio Vanni io non c'ero io mi sono messo in chat di fatemi entrare fatemi entrare e sono entrato gli ho detto quelle due canzoni non sono belle cioè non sono d'accordo però no non sono belle non sono quelle canzoni cioè magari sono belle se prese a sé cioè magari a Sanremo spaccherete sei un fan un fan che fa delle canzoni su Dragon Ball carino però quello ufficiale è più bello per esempio sì eh molto quali hai fatto Giorgio Vanni non hai fatto anche a un certo punto quelle delle tartarughe ninja insieme io sto pensando a una sigla però forse sbaglio Giorgio Vanni Gabri Ponte che fanno le tartarughe ninja però forse Gabri Ponte l'ho aggiunto io no può essere facciamo le collaborazioni pazze con pure altri pure rapper c'erano Giorgio Vanni tartarughe ninja Gabri Ponte non c'è scritto sono sincero tartarughe ninja però c'era c'era un altro quella faceva quelle nuove forse eh no perché era ninja no quell'era no quell'era altri non era lui no qua mi dice brano di Giorgio Vanni ti giuro ma quello vecchio no no oh 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 quello non è Giorgio Vanni è chiaro quello che sarà stato quello veramente Lucio Battisti eh sì sì quella è la più bella della storia si vede che l'ha fatto con noi con noi ci sono quattro tartarughe vabbè te c'avi già 41 anni sì sì ma non pensi che sia il problema non tanto Giorgio Vanni ma tu che provi nostalgia per le canzoni di quando eri bambino e non per quelle di quando eri adolescente perché io vabbè no cioè quello magari ci può stare però perché era un mondo più fatato più così infatti erano pure strane come le facevano quelle vecchie quelle di Supertreno manco manco vedevano il cartone capito era tutta una cosa sì e quello era pure bello che si inventasse no era una cosa infatti c'è Yattam ha il gran filone d'oro che dice quella cosa non si è mai capito che voleva dire no perché non sapevano che era quindi è strana c'è quel mondo strano lì proprio la canzone Yattam la giapponese è più bella sì ma non metto in dubbio che la canzone giapponese sia più bella che quella italiana però Giorgio Vanni magari non ti piace perché quando tu eri bambino non c'era poi dopo da adolescente si è andato da fare tipo a me piace a me piace no no perché io ero da purista qual'ero cercavo come erano le canzoni originali e poi le comparavo con quelle e che creavano pure lì un mondo invece le compravo con quelle con quelle italiane che erano che pensavano questi sono dei deficienti no però dei ragazzini che devono che devono gli devi cesto cartone invece là in Giappone c'era tutta ma questo lo faceva solo Giorgio Vanni o anche Cristina D'Avena Cristina D'Avena non si tocca ma al livello proprio cioè mistico cioè proprio come entità poi sì lo faceva anche lei con le canzoni però però che c'entra gliele faccio innamorato sì quello sì poi gliele facevo passare perché comunque sì ero più piccolo e poi erano cartoni che non ha toccato i cartoni importanti capito quindi vedi è un problema tuo non è un problema Giorgio Vanni è un problema tuo che ti ha toccato i cartoni tuoi però ti ha toccati perché eri grande ma se fosse stato un bambino poi Cristina D'Avena ha fatto anche Dottor Slump e Arale per dire che per me non è tra le sue migliori però quella giapponesa è più bella cioè io se sento quella giapponese di Dottor Slump mi commuovo se sento che sia D'Avena dico vabbè questa è una canzone ma non per lei perché l'hanno fatta gli hanno fatto fare quella canzone l'hanno costretta povera sì no no dobbiamo essere più fedele alla versione giapponese urlava Cristina in studio canta canta Dottor Slump no perché beh ormai era ormai era andata comunque cioè ormai non è che puoi cambiare la storia la storia ormai faceva quel ruolo lì in un momento in cui era più accettabile ma perché la cultura era diversa non si pensava alla cultura giapponesa alla cultura giapponesa all'originalità si cambiava tutto invece poi a un certo punto si è scoperto cioè là c'è la scusa da un certo punto dal 2000 e poi non c'è più scuse secondo me ah quindi per te Giorgio Vanni non aveva più scuse no no excuses secondo me sei te che sei un po' un hater generazionale ti dico un'altra cosa su cui sei un hater che mi dispiace molto no non so perché secondo me è giusto che fai però mi devi dare la possibilità di sentire le canzoni vere durante l'ora di pranzo ti dico una cosa ti dico una cosa su cui secondo me sei un hater generazionale Paolo Chiavetor Paolo Chiavetor Paolo Chiavetor fa ride fa mega ride Harry Potter fa super ridere qua dobbiamo spiegare però perché no no vabbè non lo dobbiamo spiegare ho appena detto che l'invito a farsi di droghe pesanti non dobbiamo spiegare i doppiaggi dei film io sono anche qui un purista purista reazionario proprio conservatore sono leale ai profilax per cui ma la lealtà ai profilax è giusta infatti io avevo no no vabbè è certo ma i profilax sono le grandi abbiamo avuto Fabio Pincio è stato uno dei giorni più più della mia vita però secondo me sarebbe stato bellissimo fare una puntata per far riavvicinare i profilax a Paolo Chiavetor perché Harry Potter i vari Harry Potter sono un piccolo capolavoro è un peccato buttarli via solo perché lui ha plagiato il nome di uno degli elementi originali profilax e perché ha copiato quella roba là però i doppiaggi dei film si facevano a Roma si facevano a tutti i dati i profilax sono sicuramente dei maestri Paolo Chiavetor ha ripreso quell'arte sbagliando a prendere il nome però Harry Potter fa ridere ma ha sfruttato il nome di altre persone tant'è che appunto si è diciamo guadagnato l'appellativo di clone coglione no certo ma infatti capisco capisco però in realtà poi noi ragazzi aquilani che di tutta questa fight non ci interessava niente abbiamo goduto di Harry Potter è stato bellissimo cioè quelle emozioni non me le toglierà nessuno pure adesso J.K. Rowling è transfobica però Harry Potter resta un capolavoro ma perché Paolo Chiavetor si chiama Paolo Chiavetor io non devo pensare che Harry Potter sia una stella del firmamento dici una rosa se avesse un altro nome esatto bravissimo però visto che sto parlando di questa cosa posso collegare a una cosa che mi sto guardando adesso visto abbiamo parlato di Chiavetor la persona più divertente in Italia nell'ultimo anno e mezzo su Instagram non è uno stand up comedian no si chiama non è un influencer no è un puro è un esempio è un luminare si chiama su Instagram Jova Show facciamolo l'applauso anche se lo conoscete in pochi Jova Show è una persona che si chiama Giovanni Colombo e lui ha sto profilo Instagram dove credo tra amici abbiano iniziato a fare questa cosa per cui fa l'anagramma di delle frasi non anticipare come fa fa gli anagrammi fa l'anagramma fa l'anagramma delle frasi ve ne faccio sentire alcuni aspetta devo fare un'altra premessa però devo dire che cosa c'è non lo dire non lo dico sono 800 persone a teatro allora parental advisory diciamo così può darsi può darsi siete tanti che a qualcuno di voi questa cosa ti ha fastidio a me dispiace veramente non siamo qua per dare fastidio alla sensibilità di nessuno come a volte se venite a vedere Tintoriata al vivo vi beccate gli spoiler a volte vi beccate cose che potrebbero urtare la vostra sensibilità vi faccio sentire alcuni dei suoi contenuti all'arco della pace di Milano e l'anagramma di arco della pace di Milano è cipolla cane la merda questo è uno dei suoi contenuti se pensate che gli altri suoi 1400 post si discostino molto non avete capito niente di questo artista fanne sentire un altro un altro dei tuoi preferiti però tieni il microfono bene eh lo so lo so è che poi partono vediamo un po' un altro bello e poi dona il tuo 5 per 1000 alla chiesa cattolica e un'altra di quelle domande che non hanno ancora una risposta quale chic cali maiale troll inculato pesante allora a me questa cosa mi fa ridere tutte le volte vi chiedo scusa vi faccio sentire l'ultima vi faccio sentire l'ultima che è greve questa è greve no allora chiedo come cazzo funziona Instagram metti il microfono e poi clicca aspetta aspetta cioè sono due azioni l'ho fatto prima l'ho fatto ma parte perché parte senza audio parte senza audio metti l'audio non ci sta l'audio in teoria vediamo un po' eccolo qua questa vabbè ve lo dico a me fa tanto ridere complimenti ad Angelina Mango che ha vinto il festival di Sanremo e l'anagramma di la vincitrice del festival di Sanremo 2024 è Angelina Mango al secondo posto Giuliet è smisti arcangeli folli una cosa di una violenza ma una persona tranquillissima che mette questi contenuti su Instagram una violenza inaudita inaudita guarda veramente dovrebbe farci un libro guarda che davvero lui dovrebbe farci un libro perché lui fa una roba che fa solo lui vabbè l'ultimo l'ultimo come sempre sono il più boomer tra i boomer ciao amici del podcast Tintoria so che siete arrivati alla puntata numero 200 e l'anagramma di puntata numero 200 di Tintoria è ruminando tutto di cane puttaniere bellissimo ora bellissimo non lo sapevo che c'era questo contenuto lo so la sorpresa ti volevo fare lui è un grande mi ha risposto ha detto sì te lo mando ora ci tengo a fare anche un discorso quando perché allora se il podcast te lo vedi in puntata capisci che c'è una parte con le bestemmie la salti a parte che 200 puntate di bestemmie se ne sono dette poche le ultime puntate ne sono spuntate un po' però in realtà è stata un'accelerata come sì però in realtà c'è proprio un cluster di puntate dove ci sono nelle altre non ci c'è a parte adesso Pinci forse la prima con Fabri però non si è mai bestemmiato poi se te la vedi da casa può darsi che dici vabbè stanno bestemmiando schifo oppure che schifo non sento più il podcast venendo dal vivo mi rendo conto che poi vi beccate le cose e se vi dà fastidio a me dispiace veramente perché poi non è che però succede a volte che cioè se ti intoria dal vivo a volte si è bestemmiato non si bestemmerà molto ma si bestemmerà ma secondo me io penso che debba essere depenalizzata la bestemmia cioè perché non si fa come pannella che lanciava le cose la droga perché depenalizziamo e noi diciamo depenalizziamo le bestemmi lanciamo foglietti letteralmente siamo all'Ambra Giovinelli a mettere Giova Show nell'audio però capisco anche la persona che viene a teatro o comunque la persona che ha affazzito la bestemmia e dal vivo non la può evitare cioè adesso siete stati in trappola qua e questo mi dispiace dopo il scontato ci siano le persone qui in mezzo a cui dà fastidio e quello mi dispiace veramente però capita cioè d'interno anche questo se non vi piace dovremmo essere più tolleranti su questa cosa loro dovrebbero essere più tolleranti sì sì no io figurati infatti però capisco pure che cioè se ti dà fastidio arrivo io a bestemmiarti davanti di solito non lo faccio non bestemmo davanti alle persone no 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 però dà fastidio però il podcast è anche libertà di espressione e veramente lui mi fa ridere tutto quello che fa cioè se capita sai che dice ah seguo questo a nostro reel non lo sento fanno ridere tutti uno dopo l'altro tu pensi è un po' stanca no non molla un cazzo lui dà dritto con la sua strada poi le fa tutte con la stessa faccia l'anagramma è duplice no fa proprio ride sempre sì sì e lui è la cosa che mi sto guardando più di tutti su Instagram mi sono visto visto che qua siamo comici in teoria mi sono rivisto I'm telling you for the last time non so se c'è presente il vecchio special di Seinfeld l'ho visto anni fa sì è il penultimo perché Seinfeld fa uno special tipo ogni 15 anni e il penultimo I'm telling you for the last time e ho pensato una cosa che non penso mai cioè quello special è perfetto cioè proprio ho pensato questo special è perfetto e Seinfeld si fa un sacco io ci tengo molto alle battute le pause le cose ci lavoro tantissimo ci studio tantissimo per questo gli special escono ogni tantissimi anni però effettivamente quello se lo riguardi è nello stile di Seinfeld quindi ti devi piacere quello stile là però non c'è un gesto una parola una pausa proprio dimetrica se ci mettiamo in dieci là a riscrivere quello special non puoi cambiargli un accento che è una cosa che è bello dire degli special dei comic americani però di quello è proprio vero cioè nel senso è perfetto questa cosa della perfezione non l'ho mai provata neanche tipo lui sì che secondo me è il più bravo di tutti però lui è cioè lui è proprio lui che è straordinario poi lavora duro si impegna tantissimo invece Seinfeld è proprio sembra una se fai fare all'intelligenza artificiale fammi lo spettacolo perfetto di Seinfeld esce fuori quella roba là e sono rimasto estasiato estasiato è stato bellissimo ma io non me lo ricordo però no no ci tenevo a dirlo perché è una cosa che non non capita mai no rivedetelo perché pensi proprio vedi quanta strada c'è da fare ma invece l'intelligenza artificiale ha visto che hanno fatto lo spettacolo nuovo di George Carlin con la veramente sì hanno fatto uno spettacolo cioè con lui ma in video no no è audio cioè con la voce sua che fa lo spettacolo George Carlin è morto da però lui da un po' di anni una dozzina d'anni quindicina d'anni sì e hanno fatto con la I però non è non è la stessa cioè non è la stessa cosa l'hai sentito ho sentito ho sentito dieci minuti tipo non è non è che non fa ti ho armenterita ma poi è cioè comunque la stand up è bella perché ti porta nel mondo di quello che la dice se senti solo delle frasi che potrebbe dire lui oggi ti manca proprio quella cosa lì è proprio senza anima sono delle delle parole che uno dice però sai che non le pensa che non le pensa veramente quindi non è non è bello vabbè quindi per fortuna la I ti preoccupa la I che ci ruba il lavoro? a noi? eh ma oddio finora a livello di battute non è che fa chissà chissà però c'è tipo chat GPT esiste da pochissimo eh sì sì ma tu la usi? no l'ho usata la prima volta due settimane fa ma così per calzeggiare io un po' la uso per scrivere per lo spettacolo nuovo sì fammi dimmi come scrivi un monologo di dieci minuti per sennò tu mantri una serata che si chiama diciamo tutta roba fresca esatto per non farire eh no però tipo mi serve una cosa tipo questa eh tipo però alcune cose non le fa tipo volevo scrivere un racconto erotico eh gli ho detto fammi un racconto erotico e ho detto ma non posso fare queste cose eh quindi non può scrivere racconti erotici no mazza che è pudica che sola non lo può fare perché dici se no i bambini fanno che ne so perché pensa chissà oppure devi fare la morale ogni tanto se dici fammi una che non so che cosa può essere controversa fammi un messaggio ironico positivo sulla schiavitù per dire no e lui dice dice sì beh la schiavitù vorrebbe così però è importante pensare che la schiavitù è sbagliata sì lo so non è che me lo devi spiegare a te cioè ma che serve l'intelligenza artificiale che ha due anni a spiegare ogni volta mi devi dire la cosa finale la morale che fa così e quindi un po' io gli dico ma che cavolo vuoi non mi rompe le palle e lui dice scusa e quindi non gli puoi non gli puoi di niente perché poi ti spegne così capito questo ho un amico che ogni volta che usa chat GPT poi dice sempre tipo grazie mille gentilissima cortesissima così quando le macchine arriveranno sapranno veramente lo fa la usa molto cioè grazie sei stata utilissima fantastico che cortesia io invece dimmi che ne so modi di tagliare la legna un elenco manco di farmi un elenco un elenco così io metto anche delle parole tanto di questo lo capisce e lui lo fa e se non lo capisce schiaffi se non lo capisce sì t'ho detto però zì gli dici t'ho detto un elenco fallo fammi un elenco in maniera perentoria me lo fa però non è mai quello che mi serve a me quindi è un po' rosico secondo me tempo sei mesi gli dici mi fai una puntata a 200 di un podcast dove non c'è l'ospite per l'Ambra Giovinelli che ti fa questa roba qua che potrebbe essere questo effettivamente la potrebbe fare secondo me chatto GPT questa scaletta la faceva serenamente ah e poi sai cosa mi sto guardando che io come sai ho sempre guardato poca televisione ultimamente mi sto guardando un po' dei quiz e il più bello di tutti è affari tuoi affari tuoi i pacchi sarebbe quello affari tuoi affari tuoi è di una violenza inaudita io non l'avevo mai visto è violentissimo perché vabbè c'è presente come funziona ci stanno i pacchi una famiglia una persona più qualcun altro scegli i pacchi gli altri e in uno in uno ci stanno 300.000 euro e poi a scendere fino a zero però è tutto culo ovviamente tutto culo e probabilità però è tutto culo e però le persone cioè ci puntano tantissimo perché in un pacco c'è 300.000 euro e stanno là che raccontano in loro sogni Amadeus che dice ma no ma quindi a voi questi soldi vi servono per per quel debito di cui mi parlavate con l'andrangheta purtroppo mio figlio ha fatto 50.000 euro di debito con l'andrangheta quindi ci serve rosso assolutamente il pacco rosso e ci sono ancora parecchi rossi poi vanno avanti rimangono sempre meno rossi e poi c'è veramente da un lato 200.000 euro dall'altro zero euro e stanno là al tre aprite e poi aprono c'hanno zero euro te sai che e Amadeus ti becchiano che fa ma no no ma che mazzata tremenda ma quindi adesso suo marito è spacciato lo uccideranno adesso hanno visto la puntata è morto non ci voleva ma poi il 12 era la data di nascita di sua nonna che la guardava dalla sua ma sua nonna allora all'inferno è una stronza di merda linea al TG1 ringrazio lo stesso grazie Amadeus grazie a tutti ma che mazzata terribile ma allora è stata proprio una cogliona scambiare prima il pacco dottore ma c'è ancora c'è ancora il dottore che pensa il dottore li vuole favorire o li vuole intanto là c'è tipo la mafia cinese uccidili tutti Amadeus ma no signora ma la data di nascita di suo figlio ma no suo figlio la odia no bellissimo non ho mai visto nessuno vincere dall'altro tipo il primo dell'anno c'era la cosa 300 mila euro zero euro no 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 terribile speravo troppo fossero 300 mila euro invece tornate a casa come degli stronzi buon anno linea al tg1 e via avanti il prossimo poi Amadeus sta là fa 5 mila lavori poi in mezzo Sanremo vai ama ma no fiore cosa dici stupendo Amadeus questo non è un dissing Amadeus che è il numero uno in Italia per distacco prova te a condurre il festival di Sanremo un lavoro impossibile no infatti però forse con questa energia capito te vai contro stai a fare tipo il prossimo in gara non c'è scritto da nessuna parte vabbè dai tanto lo riconoscete Giorgio Vanni e tu stai là ma no no che che altro abbiamo che ospiti vorresti per il futuro del podcast che ne abbiamo avuti tanti ne abbiamo avuti anche alcuni che ancora fatico a credere che siano venuti a fare il podcast che ospiti vorresti per il futuro dimmene poco cioè non mi dire allora non mi dire tipo cortelle cioè questi che ci abbiamo provato non ma c'è uno da fare e c'è uno da fare c'è uno da fare hanno vinto i premi cose no no infatti che stanno qua vengono qua scusa chi vabbè vanno al basement eh vanno al basement certo vanno vanno là vanno là chi possiamo chiamare vabbè io dico sempre Luttazzi ma è un po' impossibile insomma applauso è verosimile che questo applauso l'abbia fatto partire proprio lui sì sì c'è una buona chance che sia stato lui chi altro chiamiamo io ce ne ho due di nomi che vorrei tantissimo il primo forse l'avevamo già detto qualche volta è Lapo Elkan perché secondo me ah certo molto sottovalutato cioè proprio italiano molto sottovalutato brillante come come il nonno se non di più come l'avvocato l'avvocato del nonno più o meno secondo me Lapo Elkan straordinario perché poi in Italia lo riduciamo sempre che siamo un paese conservatore a quel cocainomane della Poelkan invece è una persona con una malattia la tossicodipendenza a quale trattiamo sempre come una colpa soprattutto se sei miliardario e poi vorrei che lui raccontasse la storia più divertente di tutti cioè lui che rapito rapito a New York dice vogliono un riscatto 10.000 euro ma come Lapo ti hanno rapito a te e hanno chiesto 10k gli avranno detto al telefono Lapo cerca nelle tasche vedi che forse forse li trovi cioè nel cappotto tasca interna un 10k volante ti avanzano rapisci la Poelkan ricaricami la poste mi servono 10.000 euro Lapo sei sicuro che non è una storia di cocain anche questa no 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 quello fa cioè se lui ha la la distanza per raccontare quelle storie appunto come storie che sono storie di tossicodipendenza che fa ridere se la persona che le ha attraversate riesce a scherzarci sopra quello quello è tipo così se ti rapiscono a te e chiedono 10.000 euro cioè mezzo che li riusciamo a coprire capito e voglio dire se la Poelkan chiedono 10.000 euro 10.000 euro sono pochi cioè seppure a te possono chiedere 10.000 euro facciamo una cosa fatta per bene maxi prelievo sul cellulare sì sì tra l'altro non ci arriva 10.000 quindi lo rapite un giorno e poi due giorni dopo eh sì 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 esatto e si arriva a 10k quindi la Poelkan tantissimo e poi l'altro vai e dillo tu dicevo anche una cosa che mi ha fatto pensare ho fatto un'associazione la Poelkan e Manonele Filiberto non so perché si somigliano forse quindi comunque piemontesi torinesi e quindi l'altro che vorrei chiamare è Pupo ah Pupo sì Pupo ti piacerebbe mega interessante Pupo vero? perché? ebbè c'è tutta una vita pazza lo vive in un hotel con due donne cioè comunque passato nel gioco d'azzardo questa roba qui questo rapporto strano con la Russia insomma cioè può essere interessante bello Pupo Pupo se vuole è padrone di casa allora ti dico un altro musicista che mi piacerebbe tantissimo io voglio tantissimo Gigi D'Agostino perché io pensavo stesse male e se no facciamolo un applauso a Gigi D'Agostino che è il più grande e poi invece stava a Sanremo cioè non sta male sta male se ha fatto Sanremo ecco Gigi D'Agostino forse lo vorrei più di tutti perché secondo me lui è proprio l'italiano nel mondo più importante di tutti dai tempi di Giulio Cesar cioè nel senso ha cambiato la musica in Europa e quindi nel mondo e questo non gli viene riconosciuto secondo me straordinario non so come sta ci dicevano che stava male ma se ha fatto Sanremo non può fare una tintoria non lo portiamo in un teatro gigante Gigi dove vuoi tu quando vuoi tu veniamo noi da te forse vive in Svizzera Gigi D'Agostino veniamo in Svizzera che problema c'è veniamo in Svizzera così Stefano fa pure una cosa che deve fare là quella cosa che ti ha detto il commercialista che devi fare in Svizzera pensavo che l'aveva detto Marco Cappato che salutiamo amico Stefano fa una cosa al volo che deve fare chi altri possiamo chiamare no non lo so l'abbiamo provato però non siamo riusciti Pippo Franco ma è vero Pippo Franco a me è pure quello bellissimo prima o poi verrà senti vuoi fare invece un audio di qualcuno vogliamo fare un audio sì che ci ha mandato un altro amico che ci saluta vabbè allora lui ce ne ha mandati tre e quindi non so se fate sentire secondo me tutti e tre tutti e tre pure questo io non l'ho sentito io e Stefano per farci le sorprese ognuno ci fa un saluto lo devo annunciare secondo me annuncialo il nostro amico Rocco Tanica allora ciao a tutti quelli che sono lì in sala questo è Sermonti l'abbiamo sentito poco anzi amiche e amici di Tintoria Tinti e Rapone un caro saluto e il migliore degli auguri di buona duecentesima puntata da me io sono giovane ho partecipato a una fortunata puntata di Tintoria che ha ottenuto molti clicks un po' come le foto di donne nude e di gattini il mio più grande abbraccio a voi che sostenete noi VIP che scendiamo al vostro livello per raccontarvi un po' di noi e un grande bacio sul nasino da Rocco Tanica che carino molto carino vediamo la seconda take ciao amiche e amici di Tintoria ciao Tinti e Rapone io sono Rocco Tanica e anch'io mi sfioro ascoltando la duecentesima puntata di Tintoria ce n'è anche un terzo grazie Rocco no 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 qualcuno non voglio pigliare ma era solo un sogno accipicchia la realtà è molto più rosea ed è la duecentesima puntata di Tintoria di Tinti e Rapone grazie per essere quelli che siete e non cambiate mai metto questa era una citazione degli squalor quindi anche anche una cosa bella senti Stefano avevamo chiesto delle domande anche dal web anche perché ti dico credo abbiamo iniziato da un'ora e tre quarti porco due che cavolo siamo andati lunghi questa roba è nulla proprio ma vogliamo salta questa e facciamo al pubblico al pubblico non ne facciamo nessuna fanne due domande da Instagram aspetta beh certo che ora stiamo così con sta fretta aspetta vediamo un po' come sarebbe la serie tv di Tintoria thriller sci-fi 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 un film il film di Tintoria il film come sarebbe il film di Tintoria insomma noi dobbiamo andare a intervistare il Papa bello partiamo con tutte le cattive intenzioni di dire Papa si fa presto a dire Papa esatto andiamo a intervistare il prossimo Papa cioè diciamo ok non quello quello falso e poi incontriamo che non fa rite che mostra cosa c'è nel senso che la stanno a dire cioè ti scomunicano però noi non siamo non siamo predi quindi a posto no però è bella questa cioè che comunque c'è un po' di gente che dice che non è il vero Papa non è il vero Papa ma poi vabbè ci costano sì sì per carità mi sembra una faida stranissima e quindi noi che andiamo a intervistare il vero Papa è tutta l'avventura per andare a intervistare il vero Papa e quali sono però gli ostacoli quali sono gli attori che ci interpretano ah non siamo noi ma volendo sì però magari se c'è un che ne so io vorrei i borghi perché comunque sì pelato con la barba mi premia dice ah quindi forse l'intervistare Borghi e Marinelli facciamo bellissimo stupendo no sai che Borghi e De Sica facciamo facciamo questa così io sono Cristian De Sica oggi così insomma più anziano e tu sei Borghi ci può stare Massimo Borghi scusate a tardi ci vorrebbe stare no bello è il Papa chi lo interpreta as himself il Papa si fa da sé tipo le serie nel ruolo di se stesso il Santo Padre e quali ostacoli troviamo perché loro non lo so è un road movie secondo me è un road movie appunto il Papa dove sta il Papa sta in vacanza dice dobbiamo andare a Castel Gandolfo ce la possiamo vicino è vicino possiamo farcela no però forse il Papa è nel Vaticano e noi dobbiamo andare però non abbiamo il permesso però dobbiamo farlo assolutamente partiamo o dal nord o dal sud e dobbiamo fare tutta una strada e dobbiamo fare certo tutta la solita Italia da giù a su o da su a giù per arrivare bello e c'è io da tutti i nostri amici che abbiamo conosciuto ma chi è che invece vuole impedirci cioè ci serve un antagonista capito non è che siamo due io e poi andiamo là Santo Padre no è il Vaticano che noi siamo noi abbiamo la prova che lui non è il vero Papa e vogliamo sbatterli le in faccia devo dire guarda Papa abbiamo fatto questa intervista noi abbiamo questo documento questa valigetta questo documento firmato da Dio con le ultime volontà di Ratzinger alcuni suoi ninnoli come le scarpette rosse quelle cose lì cioè l'ermellino l'anello papale sono queste cose qui e noi grazie a quelli se lo mettiamo l'anello vediamo delle visioni ma questo è troppo troppo fantasciente no però perché secondo me se metti l'anello di un ex Papa comunque c'è una bella botta cioè può essere che vedi le cose vedi delle cose vedi il momento in cui lo ha tradito tipo tipo Anakin Skywalker Robby Wankenobby sul lava però sono i due papi e dicono tu eri il prescelto esatto tu eri il prescelto è pure il best io te odio io te odio mi one questa è la mia imitazione del Papa io te odio mi one cerchiamo di fermarci e poi arriviamo e poi come lo sconfiggiamo con la nostra dialettica che sconfiggiamo il Santo Padre noi abbiamo un podcast Santo Padre lui ci converte immediatamente in tre parole ha ragione su tutto no poi siamo lui ci sta sconfiggendo poi arriva da dietro una terza persona da questa ex macchina che è Jova Show che dice due parole l'anagramma di Razzi è il vero Papa vorrebbe essere anche il il Mace Wind no tipo come si chiama il codice da Vinci c'è tutti gli enicpi arriva lui che li risolve e sono tutti con la stessa soluzione bello bello dai ci può stare e ne faccio un'altra sempre da Instagram si si chi di voi due si distreggerebbe meglio durante un'apocalisse zombie sono sincero io non lo so dici perché comunque vado a correre cioè un po' basta questo come se non ci fosse come se fossero tutti i corridori quelli che sono i protagonisti delle cose zombie sono tutti vecchi bambini cioè lo vedi che so si si no però ti sto parlando della vera apocalisse zombie sì ma quello è survivalism non è ok allora prossima domanda come sei messo a survivalism ste? io ho visto tanti film di zombie quindi pensi che sapresti più o meno so come ha giocato quanti residenti l'hai giocato tu? due quello per Wii e poi un remake vabbè io forse quattro quindi diciamo già no certo però non è che poi sai maneggiare un fucile a pompa no però so dove si nascondono i cani i pazzi quando escono capito? se sei in un corridoio ben specifico dici ah qui no e poi sai dove cercare i proiettili quelle cose le erbe so come come le erbe rosse le erbe verdi quelle cose lì sai come salvare ecco per fortuna avevo salvato due secondi dopo l'inchiostro come metterlo vabbè secondo me no secondo me sì questo qua ti piace forse l'ultima da instagram ah no questo faceva ridere 2000 euro al mese ma devi necessariamente fare una sega al giorno a un tuo amico sì o no posso dire una cosa cioè comunque 2000 euro al mese per fare una sega al giorno non so tanti nel senso che domanda se fai una sega al giorno per soldi fai più di 2000 euro al mese secondo me se lo fai per lavoro comunque questo secondo me è più lui che stava guardando fammi capire se riesco a buttare là questa possibilità poi non si è firmato quindi capito poi si vede la puntata con gli amici e fa tipo ah 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 e guarda che ridere pensa se e capisce se ci sono margini per questi 2k al mese no c'è anche questa netti ci mancherebbe l'ordine ti stai buttando via c'è anche quest'altra che era due sedie una davanti all'altra nella prima c'è un cazzo nella seconda una torta dove vi sedete tu dove ti siedi perché a te piace molto la torta si poi dipende poi il resto devi mangiare eh certo la cosa è quella ti siedi sulla torta e guardi il cazzo no beh a sto punto a sto punto non è facile a sto punto sul cazzo win win bravo bravissimo bravissimo vedi a me invece non piace la torta e quindi direi vediamo se invece che comunque l'omofobia a tintoria non è di casa esatto su tinder incroci tua cugina figa swipe right no questo mi dissocio ma si dai ha pure per ridere poi vedi un po' che succede e poi cerchi di capire poi si vede che succede senti questa un po' più no però questa è un po' più introspettiva te la faccio no che stavano ridendo invece di strutturare tutto c'è stato un momento in cui avete avuto paura per la vostra vita a te hai mai avuto una volta sì una volta ho bevuto il caffè eh tanto caffè ho bevuto un giorno tipo due macchine no due macchinette interne di moca grande come mai perché stavo finendo un fumetto su Marco Travaglio Zombie e dovevo finire insomma in tempo per Lucca e quindi stavo tutti i giorni a disegnare sulla tavoletta grafica e e poi ero stanza tutti i giorni a fare questa cosa qui e poi dico per riposarmi che faccio mi leggo un fumetto però sulla tavoletta grafica mi stavo lì così con con la luce sempre in faccia quindi stavo mangiando dai miei e mi sono sentito un attimo male e quindi non so se ci ho avuto un attacco di panico se erano convulzioni non so che però tipo facevo tipo così non so se era il caffè o la luce del dello schermo o chissà che non so se la luce dello schermo ti fa venire beh no mazza come io sono stato il terrorismo psicologico quando ero piccolo dicevano non stare davanti alla televisione tra l'altro no invece a mio fratello è successo noi siamo andati in vacanza tipo lui stala male oppure era in punizione si è fatto 52 ore di Final Fantasy e poi è svenuto a colazione testa nella tazza di cereali è cominciato eh sì vedi cioè è vero la stessa cosa sì sì è brutto forse era la stessa cosa era una convulsione e quindi ho detto vedi muoio e poi alla fine non sono morto però però dici vedi quindi ero anche abbastanza giovane ho pensato per la prima volta ho detto vedi questa cosa della vita può succedere può succedere e questo è no no è una bella bella how I met mai l'oscuro mortality ma beh ci sta sì no io sì però è più quando c'avevo la quando c'avevo la malaria la seconda volta lo dicevo pure in un monolo però pensavo proprio perché a un certo punto mi sono spento ho gli occhi aperti e non vedevo niente e pensavo è così che si muore a 19 anni di malaria come i furbi nato in Italia morto in ghana di malaria veramente non e poi quando per qualche secondo la notte del terremoto perché si era staccato un po' di intonaco mentre ero sul letto e era cascato sul letto allora pensavo dopo l'intonaco viene giù tutto il resto e poi invece è uscito quindi è andata bene però quelle due volte pensavo e poi vabbè quando ho avuto gli attacchi di panico le prime volte non sapevo che erano attacchi di panico però quella è proprio letteralmente che pensi sto morendo e invece sto una crema certo forse scelta sbagliata di domanda stavano tutti ridendo e poi fate fate ma torniamo subito alla carica con questa un dito in più per un testicolo in meno accetti? allora ti dico la cosa che mi farei questa domanda ma con sto dito in più ma che ci devi fare? non pensate mai ho un undicesimo dito game changer totale ma poi dove? magari al posto del testicolo allora in quel caso sì se puoi avere un dito in più qua se ti vuoi grattare ti gratti sempre anche da un punto di vista sessuale adesso senza diventare volgari però avere un dito in più vicino al pene non fatichi zero da quel momento in poi nella vita può essere utile sì sì forse guarda un dito anche perché pure rigirava la domanda con due testicoli che ce devi fare? ce n'hai uno a posto quale testicolo sceglieresti? da sei su una torre ci sono il tuo testicolo sinistro e il tuo testicolo destro quale butti giù? non posso che mi guardano con quella faccia rugosa non posso voglio essere come i miei figli letteralmente contenete i miei figli però aspetta ma se poi il cioè se qui c'è un un dito vuol dire che al posto del dito c'è un testicolo no perché no per questa domanda no perché un testicolo sulle mani è brutto adesso con tutto il bene che si tratta per i testicoli sbatti in dito mamma mia ti dimenti capito ti scrocchi le dita e poi stai capito sì dai sì 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 no 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 senti Stefano vogliamo passare alle domande in sala dal pubblico secondo me sì anche perché sì dai io vado in bagno e quindi ti lascio vado in bagno aspetta facciamo l'ultimo messaggio allora poi vai in bagno ah va bene e dopo passiamo al pubblico ok sentiamo l'ultimo messaggio pure tu andai in bagno veramente sarebbe è la prima volta sei andato in bagno beh qualche volta no dico durante durante la puntata non sei andato in bagno forse non mi ricordo forse al monk forse sì forse sì forse al monk senti che ti dico vi dico chi è questo o non vi dico chi è forse lo riconoscerete immagino posso diciamo solamente che è un candidato all'oscar diciamo solamente questa cosa caro Rapone e caro Tinti i nomi non me li ricordo so che siete arrivati alla duecentesima puntata vi faccio i miei complimenti siete bravi spero che ne facciate altri altri duemila vi voglio vedere in un teatro a fare tintoria da anziani con il catetere attaccato e Rapone e un pappagallo sotto la sedia a Tinti anche se penso che mi sa che già ora Tinti qualche problemino urinario ce l'ha già Rapone il catetere ce l'ha dietro la schiena lo so non dovevo dirlo comunque vi saluto e che vi devo dire lo sapete già tutti lo sanno il vostro podcast è che poi che cazzo vuol dire podcast non l'ho mai saputo vabbè scusate è il migliore in assoluto in Italia ora vi saluto perché devo andare a farne un altro dirò insomma un po' la stessa cosa ciao un saluto Massimo Ceccherini e Lucio che stava dietro Lucio che si sentiva dietro sono contato e l'abbia detto perché mi hanno mandato il reel di lui che da Gurulandi ha detto il podcast migliore d'Italia c'era rimasto maluccio sono sincero però me l'aveva detto aspetta mi ha scritto una cosa su quella eh sì sì c'è quello che ha detto questo rapporto con non mi ha chiamato carino e che me l'aveva detto aspetta no me l'aveva detto guarda ho fatto sta cosa ho ceduto perché non voleva fare i podcast dove stavo ci metto un po' questo contenuto premium veramente sì lo scrolling ho detto sì ho visto uno spezzone però gli dice che il podcast più bello non va bene e lui mi ha detto cazzo è beccato proprio quello è perché sono solo un lecchino poi c'è quando hanno nominato voi di tintoria poi hanno detto salutiamoli e io ho risposto ma no sono delle merde vuoi molto meglio no però ho detto scherzo e vi ho salutati quindi salutiamo il buon il buon ceccherini Stefano ti lascio un momento a fare le domande vabbè sbrigati vale anche vabbè allora ci sono delle delle persone che verranno c'è il buon Ottavio che è lì giù c'è forse anche Maria Giulia da qualche altra parte ci sono ci sono domande che volete fare poi no allora c'è una domanda da parte di un signore e no deve arrivare il buon Ottavio l'ho appena detto bello questo momento allora siccome avete parlato nella centesima puntata delle puntate che vi sono piaciute più fino a quel momento invece fino a questa duecentesima qual è quella che non vi è piaciuta ma non in relazione all'ospite che non siete soddisfatti voi di come è andata la puntata ma non è che ce ne sta una in particolare che se avesse l'occasione di rifare la rifaresse diversa per come l'avete no rifalle che palle ormai l'abbiamo fatta che facciamo tutte le puntate ormai si è fatta è andata bene così è andata bene sì non è non penso non so pure parlo pure per tinti però nella fine penso che bene o male alla fine quello che ci interessa è che esca fuori l'ospite se esce fuori siamo contenti se non esce un po' meno quindi ok grazie mi dispiace volevi un nome ma me l'aspettavo la risposta questa democristiana sì è certo ma forse perché ci sei solo tu adesso ah perché c'è tinti dice no quella con non lo so direbbe ma sei sicuro ma sei sicuro sì quindi ti basta solo il dubbio che ci sia una persona che mette che mette un dubbio adesso metto il dubbio certo va bene va bene grazie grazie a te per questa domanda un applauso addirittura e niente voi che state che fate che vi state paga un po' meno comandato ho sentito risate hanno detto che tu avresti risposto una domanda in maniera più cioè una puntata che che avresti voluto rifare perché non sei soddisfatto di comandato io ho detto no che palle rifalle no ce n'è una che abbiamo rifatto quella con Eleazzaro a casa tu non c'eri che l'audio era una merda l'abbiamo rifatta un mese dopo non è che l'abbiamo rifatta quella al Bonk non è che l'abbiamo rifatta però abbiamo rinvitato l'ospito un mese dopo però quella conta in realtà colpo di fortuna perché no no c'è ancora conta conta come puntata sì sì conta come puntata è ancora là mazza proprio non c'è andava bene tutto alle cose sì 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 ok ma ce ne stanno certe fatte in tempo di Covid che dici mamma mia la monnezza che ho fatto no no io vado orgoglioso di tutte e 200 le puntate secondo me è bello che siano tutte tutte come sono cioè alla fine puntate una che non mi piace è quella in cui sei solo tu che stavi c'hai il Covid e quella dura mezz'ora è un po' una macchia secondo me no c'è neanche un'altra fatta durante il il lockdown in cui mi faccio le domande e mi rispondo da solo però era un periodo difficile per tutti quella ne vado sì quella ne vado molto orgoglioso quella secondo me è molto bella quella da solo col Covid effettivamente quella tra l'altro forse pure là la tecnologia ci mise lo zampino per cui è registrata poi l'audio non c'era riregistrata ma era un periodo di frustrazione perché stavamo cambiando posto vabbè stavi a casa poi tu in quello sì sì ero a casa per l'appunto il Covid-19 ci sono altre scusami giro verso di qua qui c'è Otto Ottavio Ottavio dobbiamo dire il suo nome il nostro Ottavio Stefano ma io ho un dubbio ma non ti senti un po' debitore nei confronti del povero Lundini che ha provato tantissime volte a racimolare un paio d'occhiali da un noto marchio invece tu professi di avere sponsor come se nulla fosse fumetti come se piovessero e lui niente non ho capito perché è debitore non ho capito perché lui non l'ha mai ottenuto e tu invece pure pure timiti un sacco di fumetti però scusami non è questo il significato della parola debitore questo è questo che mi ha un attimo a parte che Valerio ha mille cose che gli mandano però non gli occhiali che vuole non gli occhiali perché si vergogna ne dillo poi lì l'ha detto quella volta gli sono arrivati quindi la domanda qual è se ho sensi di colpa nei confronti di Lundini che è più ricco di me e ha più regali di me no forse no no hai sensi di colpa verso Valerio no no anzi però grazie per la domanda mi piace che provi a creare zizzania sì sia sempre bello ci sono questi pure altri momenti a parte Sermonti che vince a mani basse qual è il vostro cagare in discoteca preferito? vabbè per me quello di Castellito quello di Castellito forse sì forse quello di Castellito perché va detto anche una cosa cagare in discoteca è una rubrica che è anche come la interpreti cioè come ci regali la performance come ci porti nel dolore del momento devo dire che Castellito ha dato tanto a quel ruolo e quindi forse si prende la medaglia d'argento sì sì sono d'accordo andiamo avanti senza soluzione di continuità in realtà ancora poche perché siamo qua mi sa da da troppo la matematica è completamente sballata c'è altre persone che vogliono laggiù ce n'è una che forse è l'ultima perché non vogliamo neanche strapparvi di bocca le domande questo è il motivo per cui abbiamo smesso di fare le domande dal vivo nelle puntate è che la gente giustamente non c'ha un cazzo da chiedere perché dice noi abbiamo pagato per vedere voi ma dobbiamo pure farvi noi contenuti no infatti no c'è ragione a proposito di Zizzania ci provo vai qual è la puntata che avreste potuto fare senza l'altro del tipo che l'altro faceva delle domande e voi invece eravate più interessati all'ospite allora dice che cazzo sta di questo no 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 devo dire cioè se uno taglia le domande troppo presto poi l'altro glielo dice dopo però addirittura no infatti no no non è mai successo non credo almeno mi devi dire che che boh no forse quella con Kashmir c'eravamo in tre c'eravamo in una persona in meno non cambiava niente dici no dici che no però alla fine pure lì era divertente no no infatti c'eravamo tutti sì sì era bello no dai dai no 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 guarda bella provocazione però ancora ancora ci sopportiamo abbastanza bene devo dire sì sì sorprendentemente poi forse il periodo più faticoso per fare il podcast è stato più l'anno scorso cioè c'è stato un momento l'anno scorso in cui eravamo proprio stanchi eh a fine a fine tour a fine d'estate forse però quest'anno mi sembra pure che accusiamo di meno cioè comunque lo so che non sembra però fare il podcast è più faticoso di quello che sembri cioè tanto tutto whatsapp il 90% di editoria è scrivere su chat cose diverse e però l'anno scorso mi sembra che fosse molto più sì forse c'eravamo meno persone ci assorbiva molta più energia a noi a tutto tutto lo staff che ci lavora invece quest'anno mi sembra quest'anno finora vabbè finora sì certo poi è chiaro che da primavera in poi te cominci a dire è l'ultima puntata non ti prego stai andiamo va bene va bene se non ci sta altro allora noi adesso vorremmo fare una cosa perché è vero che non c'è l'ospite però c'è una persona che abbiamo fatto lavorare fino ad adesso che vorremmo portare sul palco e Ottavio ti va di salire per favore un applauso al buon il buon Ottavio per chi non lo sapesse il nostro tutto fare la persona che fa tutto nel podcast forse possiamo di nuovo spegnere le luci di sala questo sì così poi il logo editoriale lo mettiamo dopo così fai il menspreading per vedere bene allora Ottavio Ottavio Lanfranconi diciamo anche il cognome non lo diciamo mai è l'uomo che si occupa di tutte le cose cioè un po' di tutto lo fa lui e questa è la sua ultima puntata Otto te ne vai ci lascia questa cosa è tremenda allora tu ti ricordi qual è la prima puntata che hai fatto? la 130 montata a 129 a 130 tu devi mettere il microfono che c'hai? che cos'hai? ah lo pulisci perché ti fa schifo perché sei un professionista fino alla fine ti fa schifo il nostro pubblico è questa l'immagine che è no non gli fa schifo il pubblico gli fa schifo solo l'ultimo che ha parlato nel microfono gli altri gli altri la sala poi l'ultimo ha detto spirito di conservazione no bravo certo certo no Condado che oltretutto è presente in sala è quello che sai è vero che tu avevi montato col cellulare facevi sì cioè tu erano quelle potenti Stefano e Dado l'inquadratura era con l'iPhone era con l'iPhone e quindi quante puntate hai fatto? 70 pass e sì potevo fare da solo il calcolo non era difficilissimo come è andata questa esperienza? sì infatti bello bello è stato io ho visto crescere insomma siamo cresciuti assieme infatti e adesso cioè te ne vai e che farai adesso andiamo al salotto Caronte io rimango lì rimani lì a lavorare salutiamo gli amici di salotto Caronte e vogliamo fare che è un bar che è un bar è un bar che sta qua vicino ti lasci per andare a lavorare in un bar posso l'ho bevuta io però quella è come quello ti schifi e questa non ti schifi vuoi la mia Otto che abbiamo condiviso di più siamo stati in tour assieme siamo stati in tour assieme non dirlo mentre sbavi acqua però Otto è la persona che in uno io Luca sì io Stefano e Luca Ravenna abbiamo fatto grazie Otto un tour estivo insieme e una delle stati Otto ci seguiva e oltre a fare tutto faceva anche le riprese e poi era quello che doveva montare il tour che esce a momenti quando è che esce no ma sono pronte le puntate no infatti sono pronte è importante che Otto dicesse questa e sono pronte sono due le puntate sono pronte grazie Otto hai fatto un ottimo lavoro oltretutto montate con un collega Antonio che è pure qua in sala salutiamo Antonio ciao Antonio che è qua in sala ciao Otto noi ti vogliamo bene ti vogliamo bene anche io ve ne voglio per noi resterai sempre insostituibile cioè sei veramente una figura che a questo podcast ha dato tantissimo e allora in realtà vabbè diciamolo abbiamo trovato il sostituto ah sì sì comunque sì anzi lo facciamo lo facciamo entrare vieni eccolo qua il numero 9 vieni fatti vedere vieni avanti questo è il numero 9 ciao Otto è il prossimo ciao ciao no solo così adesso non puoi tu lui può parlare perché ha avuto un'esperienza tu ancora non puoi parlare sì no anche perché ancora non è però ecco il cardigan i vestiti devi dargli a lui sì a fine puntata ci lascia il cardigan ok no sì tu questo non ti preoccupare questo lo puoi anche usare grazie mille numero 9 puoi andare grazie Otto grazie a un nuovo personaggio Otto grazie di tutto un altro applauso a Antonio Lanfranconi ciao ciao the last dance ma lui è sia Michael Jordan che Scottie Pippen un ragazzo d'oro sì Stefano come va che c'è rimasto da fare abbiamo detto tantissime cose siamo andati un po' lunghi tantissime cose vogliamo finire stiamo finendo boh che dici sono finendo adesso mezzanotte meno 10 allora che ci mancava le nostre battaglie le abbiamo dette che c'è scritto non diciamo più bazooka vabbè quello faceva ride che stiamo invecchiando non diciamo più bazooka quello è il segno dell'invecchiamento quando è l'ultima volta che avete detto la parola bazooka che comunque da bambino la dici spesso cioè bazooka perché poi è un bazooka e poi a un certo punto smetti di dire bazooka è perché sei vecchio se non dici più bazooka e io non lo dico mai l'ho sentita dire forse da travaglio di recente che grande ah no però ti ricordi c'era il bazooka di Conte era il bazooka di aiuti fiscali alle imprese erano proprio neanche aiuti fiscali erano proprio soldi era il bazooka e vedi là eravamo ancora bambini perché poi era un po' un gioco sfuggire dal covid e l'avevano reso un po' un circo per bambini e quindi si diceva bazooka questa è la mia lettura sulla più importante crisi sanitaria degli ultimi era un gioco dicevamo bazooka abbiamo detto tutto sì no dai più o meno abbiamo detto tutto cioè ci siamo che altro ci siamo io ho questa cosa ti ricordo il 2015 io l'ho passato a casa di due amici a farmi le canne e a giocare a fifa non mi ricordo niente tu te lo ricordi il 2015? sì eh perfetto vedi questo questo volevo sapere io ho scritto come gli eschimesi hanno 90 parole per dire neve noi abbiamo 90 parole per dire pasta molto bello questo fa dire un aforisma sì così vabbè progetti ho scritto farfalle sarebbero meno belle se cacassero come i gabbiani è vero questo forse era più per la stand up dovevi segnare eh so cosa penso che sono appunti del è vero che sarebbero meno belle è vero che altro? vabbè basta dai abbiamo finito poi no abbiamo finito per un po' questo mondo senza polvere cioè come sarebbe il mondo senza la polvere? bellissimo ci serve la polvere? no non ci serve non ci serve gli acari non servono a niente nell'ecosistema no? sì no dai infatti andiamo andiamo in chiusura stai dicci sempre chiudiamo sta puntata vuoi finire? vuoi finire così? sì dai poi ci prendiamo la pausa che pausa? la pausa per un po' ci prendiamo una pausa però non per tanto però un po' di di pausa ma in che senso? la pausa adesso dopo la puntata 200 mi prendo una pausa te l'ho detto te l'avevo detto no non me l'hai detto che vuol dire? no te l'ho detto te l'ho detto vado a Milano per un po' e devo e come facciamo? vabbè riscendi per fare le puntate? no vado a Milano a lavorare per un po' e devo prendermi una pausa e poi quando torno ricominciamo ci abbiamo qualche puntata accumulata escono quelle accumulate mi fermo per un po' finiamo con la 200 dici? no non finiamo con la 200 ce n'è qualcuna accumulata quando finiscono quelle ci fermiamo per un po' quando torno e ricominciamo chiedi a Milano 4 mesi non è che vado a Milano è che se fermo 4 mesi io ho comprato delle cose devo pagarle no cioè ho fatto le cose le paghi eh ho capito però ho pensato i soldi di detentoria faccio vabbè ho capito però io quando ti ho detto vado a Milano a lavorare ti hai detto ah si va bene perché sì ma io vado e torno in giornata cioè non è che mi fermo anzi appunto io 4 mesi e torno non ho capito che problema c'è dove vai che devi fare devo fare una cosa devo vabbè mi ha chiesto gazzoli de faglie co conduttore del basement ma per un po' perché lui ha la cosa allora farlo da solo il podcast è pesante io ho detto quanto ti capisco e lui ha detto perché poi non c'abbiamo la cosa del basket sai che a me mi piace il basket lo sport finalmente parlo di sport in un podcast vado 4 mesi a fare gazzoli non è che te sto a dire me ne vado 4 mesi e torno mi ha chiesto Gianluca di fare questa cosa è una bella opportunità quando te sei andato a fare la giallappa si io che ti ho detto no non andavo a fare la giallappa sto detto stai sono contento per te c'è il tuo podcast a parte me mi lasci per strada ma il podcast sta qua non è che scappa torno 4 mesi dopo e poi ricominciamo ci sta qualche puntata accumulata e poi ricominciamo ma scusa ma me lasci così senza niente e poi parla da gazzoli che comunque fa un podcast che va carino però insomma ma voglio provare a fare questa cosa 4 mesi te sto a dire non è che te sto a dire vado a lavorare poi non è che te sto vado in vacanza è il podcast tuo è il podcast mio è il podcast nostro che tra 4 mesi ricomincia non ho capito perché mi rompi il cazzo a me perché vado a Milano a provare a fare le cose quando vai tu a Milano a fare le cose io provo a fare una cosa nuova ma che te frega c'hai già roba qua poi scusami perché ti andavi meglio regnare all'inferno che servire in paradiso scusami ma allora io ti sto a parlare di lavoro se mi devi prendere in giro ma che te frega me ne vado proprio guatte in affanculo perché ma dove hai ma così c'è un co-conduttore in sala grande mister Marra grande ciao bene perfetto passavo di qua è la persona che mi serviva quindi lo facciamo noi carino comunque finalmente chiamo Raponeria dai facciamo il podcast nostro io farei marreria come la vedi marreria dici perché suona meglio no io ho un po' d'esperienza comunque dai dai c'hai i migliori i due podcast migliori d'Italia ma facciamo noi due dai me la collo me la collo ci stai sì sì e allora vogliamo cominciare dai vai partiamo ragazzi come stai ci sono quando arriva Bisio Bisio era quello che tossiva prima quindi sarebbe dovuto uscire e invece sono arrivati i paramedici e purtroppo Claudio non c'è più ma vogliamo fare quella cosa vabbè facciamo quella cosa li facciamo perché molti hanno chiesto questa cosa come se fosse vi faccio sentire una cosa metti prima il microfono no no oramai non imparo più niente cari Daniele e Stefano sono Claudio Bisio ciao so che state per fare la duecentesima replica no replica la centesima puntata originale di Tintoria io so che mi avete invitato tante volte so che non sono mai venuto e continuerei a non venire se possibile mi piacerebbe venire alla cinquecentesima potrei promettervi che la cinquecentesima se qualcuno di noi e voi sopravviverà sto quasi scherzando quasi è scherzata no ce la farò adesso sono in giro in tournée in questo momento sono a Catania poi vado a Barletta a Taranto sono nel sud vi penso poco e prima o poi ci sarò promesso so che molti parlano di me Paolo Rossi Rocco Tanica mi fa piacere continuate a far parlare di me l'assenza è più importante della presenza che bello essere in Bisio esiste chi lo sa non so c'è non c'è è aleatorio ma magari no penso che continuerò a non venire mi piace troppo ti abbraccio vi abbraccio ciao ragazzi è questo Claudio Bisio